Buonasera a tutti, benvenuti. Tra pochi istanti, dopo la pubblicità, parleremo dei fantasmi di mafia. Il primo è Matteo Messina Denaro, latitante da oltre 30 anni, e poi l'altro è Gaspare Mutolo. Non ha mai fatto vedere la sua identità in televisione, questa sera mostrerà per la prima volta il suo volto. Tra pochi istanti. Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata speciale di Non è l'Arena, dedicata alla mafia e ai suoi fantasmi. Il primo è Matteo Messina Denaro, latitante da quasi 30 anni. Questa sera una delle persone più vicine ai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano parlerà proprio di Matteo Messina Denaro e dirà delle cose che, se si realizzeranno, saranno sconvolgenti e porteranno ancora una volta al centro del dibattito sulla mafia la parola trattativa. L'altro fantasma è Gaspare Mutolo. Mutolo è stato per anni l'uomo vicino al capo dei capi, a Totorina. Ha nascosto la propria identità per tutti questi anni. Questa sera ha deciso per la prima volta di mostrare chi è davvero con suo volto Gaspare Mutolo. Ed è proprio Mutolo a parlare di due elementi molto importanti. La mancata perquisizione del covo di Totorina a Palermo, anche lui Totorina latitante per anni, e la scomparsa dalla cassaforte di quella villa dove viveva Totorina dei documenti preziosi che probabilmente sono andati proprio nelle mani di Matteo Messina Denaro. Ecco perché quando decidemmo di fare uno speciale, un documentario che intitolammo Abbattiamoli, io andai al Lago d'Orta a cercare un uomo che per anni aveva garantito la latitanza dei fratelli Graviano e proprio lui chiesi dove fossero finiti quei preziosi documenti rubati, sottratti dalla cassaforte di Totorina. Ascoltate cosa mi rispose. Documenti. Perciò qualcuno sarà stato d'accordo a dargli del tempo per portare via tutto. Chi ha quei documenti è il padrone di tanti segreti. Chi ha quei documenti sa che tu ce li hai, tu ce li hai. Evidentemente nessuno di quelli può fare il... Può fare? Può fare giochetti strani. Matteo Messina Denaro, dicono che sia morto, che non ci sia più. Allora se è morto lasciamolo tranquillo lì, non voglio parlare di lui. Ma lei l'ha mai visto? Non voglio parlare di lui. Giretti. Quindi a chi dice che è sparito, che è morto, Matteo Messina Denaro? Non ne voglio parlare. Fa comodo dirlo, no? Così non lo si cerca, diciamo. Poi al limite anche se lo si cerca, che lo si trova, si fa in modo di non trovarlo. E evidentemente perché è la storia che ci insegna. Guardi Provenzano, quante volte dicono che hanno detto che doveva essere già arrestato più e non l'avevano mai arrestato. Si vede che ha la scadenza giusta. Ci sarà una scadenza magari anche per questo personaggio, vedremo. Si vede che sono cose prestabilite. Dicono che la storia insegna. Perché dice... Perciò magari fra vent'anni, quel personaggio che ha detto lei, fa comodo magari prenderlo. Baiardo, quando le avevo fatto quella domanda sul Lago d'Orta, a proposito di Matteo Messina Denaro, lei aveva un atteggiamento di chiusura. È cambiato qualcosa da allora? Giletti, preferirei non parlare ancora adesso. Ma siccome si stanno muovendo determinate cose, anche se se ne parla, può essere un pur parler tra me e Giletti e qualche milione di telespettatori. Sì, ma sai che un pur parler tra noi due poi non è credibile. Anche se il posto è bello, voglio dire, c'è qualcosa che si muove perché sta per arrivare a una sentenza della Corte Costituzionale sull'ergastolo stativo. Quindi lei mi fa capire che potrebbe succedere qualcosa che riguarda Matteo Messina Denaro. Potrebbe succedere come una vecchia trattativa che già sia stata fatta nel 1993. Quindi come diciamo sono arrivate a Rina, potrebbe arrivare a Matteo Messina Denaro. Presumo di sì. Se ricorda che l'avevo detto, quando lo Stato deciderà di volerlo prendere, lo prenderà. Perché non serve più forse? Magari può servire ancora, come infatti non è che lo Stato lo sta prendendo. Presumo che sia una resa sua. Ecco, di questo parleremo tra qualche istante. Però prima vorrei far capire a tutti che l'uomo che abbiamo qua davanti ha gestito la latitanza di due personaggi molto importanti nel Gotha di Cosa Nostra. Giuseppe e Filippo Garaviano. Ancora oggi si dice che i veri fratelli che gestiscono Cosa Nostra siano Giuseppe e Filippo Garaviano e Matteo Messina Denaro, no? Così si presume. Beh, lei ci è stato a contatto per molti anni, li ha coperti. Io ho 30 anni che non li vedo, però stando a quello che dicono magistrati di IAG, si presume che siano ancora loro. Come ha coperto la latitanza dei fratelli Garaviano in questo piccolo paesino sulle rive del Lago d'Orta tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta? Devo dirle innanzitutto che loro erano molto tranquilli, specialmente Giuseppe era molto tranquillo. Non aveva bisogno né di coperture all'inizio né di… Di documenti per muoversi. Ecco, era quella di non uscire con i documenti Giuseppe Garaviano, ma non è che avesse l'auto blindata, la scorta, questo, questo… Lo accompagnava lei? Sì. Solo voi due? Lo accompagnavo io, basta. E dove andava? Se a volte io magari ero impegnato come… Gli lasciavo la macchina, ma lui si spostava su Milano. Gli affari si fanno sempre a Milano. Era Milano da bere. Si pensa che sia da Sicilia, qui si fanno certe cose e poi là si fanno gli affari. Evidentemente qui si fanno i soldi e là… Si poi investono o si spendono. Era tranquillo, godeva della latitanza, nessuno lo cercava però. Nessuno. Ma questi documenti, scusi? Per avere delle carte d'identità pulite, ci vorrà l'appoggio di qualcuno però. E per forza c'è bisogno dell'aiuto di qualcuno. Chi era questo qualcuno? Una persona che stava in un comune, lavorava presso un comune, un impiegato? Era un mio carissimo amico Gilettino. Un mio carissimo amico, lui e la moglie. Addirittura mi hanno battezzato la bambina, la più piccola. Qui stiamo parlando di coprire la latitanza dei fratelli Graviano. Quell'uomo però non sapeva che quei documenti sarebbero per coprire Graviano. E lo sapeva sì. Ho dovuto fargli le certe confidenze. Sono passati tanti anni, stiamo parlando dei primi anni 90. Lei non ha mai detto chi era. Chi è questo uomo? Si può dire a distanza di anni. Adesso si può dire perché l'ho detto alla procura di Firenze. E già lì si è mossa anche la DIA andando a fargli perquisizioni in casa, in municipio. Se l'ha detto la DIA lo può dire anche a noi adesso? Sì. Chi era? Chi è? E' un ex vigile urbano che ha fatto il sindaco per diverse legislature, attualmente è ancora sindaco. Anche adesso? C'entrano sempre uomini a diversi livelli ovviamente delle istituzioni che danno una mano. Beh bene o male le dichiarazioni le ha fatte anche al primo processo che si era svolto a Palermo la moglie. Quando hanno arrestato i graviano nel 94 a gennaio, lei era in ufficio perché anche lei era una vigilessa, sfogliando il giornale vede le fotografie dei graviano. Sono arrestati i graviano ieri sera a Milano. Cosa fa? Scende che sotto c'era la caserma dei carabinieri e va a riferire ai carabinieri. Ma questi li ho visti a casa di Baiardo, questi li ho visti, siamo andati in vacanza qui, siamo andati in vacanza lì. Quindi l'ha tradita? Sì. Il marito, premetto perché non ho mai fatto il nome del marito, il marito al processo a Palermo ha dichiarato, questi sono agli atti, che sua moglie era una pazza a dire certe cose perché lui non ha conosciuto nessuno e lui non ha visto nessuno. E quindi non passò nessun problema, non ebbe nessun problema, se la cavò così avrà avuto dei denari in cambio, perché lei diceva un amico. Ha avuto dei denari in regalo e ha riciclato anche del denaro. Quindi era organico al sistema da quello che lei ci sta dicendo. Quindi, Baiardo, siccome io non ho le carte, è tutto segreto. Io mi assumo la responsabilità di quello che sta dicendo, anche perché è già agli atti a Firenze. Sì, sì, poi per carità bisogna essere sempre garantisti, però mi sta dicendo una cosa molto forte. Però io le chiedo se lei ha mai conosciuto, visto che comunque, immagino che i fratelli Graviano, rapporti con Matteo Messina Denaro, li avessero, se lei ha mai conosciuto Matteo Messina Denaro? Io torno a dirle di no. Lo dicono gli atti che ci hanno visti assieme a Riccione, che ci hanno visti assieme a Porta. Quella famosa gioielleria a Riccione, l'aveva accompagnata. Ecco, ho capito, ma lei me lo... Quindi l'ha visto, ci è stato vicino, mi può dire che tipo è... Addirittura, Repubblica, o Il Fatto Quotidiano, se non mi ricordo, addirittura hanno scritto, hanno scritto, e deve andare a riprendere quest'articolo in qualsiasi momento, che io ho curato la latitanza di Matteo Messina Denaro dopo l'arresto di Graviano, per otto mesi. E questa è una falsità. Però l'ha visto. Però l'hanno scritta. L'hanno scritto, però torniamo a quello che ha visto. Che tipo è? Come era fatto? Anche fisicamente. Sai che c'è questo mistero sul volto, sono uscite anche delle immagini su una jeep, qualcuno dice che forse è lui, non è lui. È diverso da quella foto famosa segnaletica, che è l'unico elemento che si ha vero. Ha cambiato così tanto? Beh, tutti invecchiamo il giletto, sono passati 30 anni. Anche lei non è più il giletto di una volta con... Certo, certo. Neanche il baiardo è più il baiardo di una volta. Ecco, ma non mi ha detto che tipo era e che tipo è per quello che ha avuto a che fare con lui. Io posso dire che è una brava persona, però lei dice, ma con tutto quello che hanno fatto... Beh, con le stragi, i mandanti delle stragi, gli omicidi... Ho capito. Ma io chi sono per giudicare loro? L'hanno fatto realmente, non l'hanno fatto? Io posso giudicare il comportamento che hanno avuto nei miei confronti. E per me sono delle degne persone, brave persone. Che ci facevate in gioielleria con Matteo Messina De Naro? Perché uno non può comprare un orologio oppure... Non lo so, chiede lei. In gioielleria si va a comprare, non è che si va a fare una rapina. No, magari un gioiello per una donna, visto che si dice che lui ama molto le donne. Sì. È anche un gioiello che non... Può essere. È andato solo a Ricciono o vi siete visti altre volte? Perché, insomma, lei ha gestito la latitanza del Graviano, ha affittato anche una villa a Forte dei Marmi. Secondo gli atti, documentata, è credibile questa sua versione, quello che ha raccontato. Quindi anche a Forte dei Marmi l'ha visto. Era con donne? Com'era quella latitanza dorata? Beh, i Graviano viaggiavano sempre con le loro compagne, le attuali mogli. Ma a Forte dei Marmi cosa ci facevano? Una vacanza tutti insieme? Che era l'anno delle stragi, se non sbaglio, 92. 92, 93 anche. Lei stava un po' con loro, ascoltava, vedeva? Allora, in quei periodi lì, Giletti, ho una gelateria. Quindi era il boom del lavoro. Io non è che potevo fermarmi con loro. In periodi invernali mi fermavo, tipo a Venezia, tipo... Anche a Venezia si è stato? Sì. A Venezia aveva un bel palazzotto. Palazzotto addirittura. Sì, di Treppiani, che stavamo tutti lì. Tutto per loro? Sì. Ma chi c'era? Graviano, Matteo Messina Denaro, anche a Venezia? Non mi ricordo se... Non vedi che non si ricorda. Io c'ero. Io c'ero. Quindi... C'era mio cugino Cesare, che ci sono i cartellini del casino di Venezia che ci hanno registrati. Quindi nessuno comunque... Cioè, nei palazzotti, nella villa Forte dei Marmi, erano affittati oppure avevano delle coperture, immagino? A terzi... C'erano le teste di legno dietro. Per essere tranquilli, presumo di sì. Ma lei l'aveva detto su Firenze, per ricordo, a Verbale, c'è anche a Vigna, il procuratore Vigna, di quella... E anche al capo della Mobile, Giuttari. Sì, sì, Michele Giuttari. Quindi tutto verificato. E lo hanno accertato. Perciò ogni dichiarazione del Baillardo, piuttosto il Baillardo non diceva niente. Ma quello che diceva è perché era riscontrabile. Non l'ha mai più visto Matteo Messina Denaro? Quando lei viene sempre ed è stata in Sicilia, non l'ha più visto da allora. E anche se l'avesse visto non mi direbbe... Io vengo in Sicilia, ho il genitore anziano, i giletti. Vabbè, senta, a proposito dei Graviano, nel telefonino qua mi sono portato una serie di dichiarazioni che ha fatto a processo. E una riguarda l'arresto che venne fatto nel 94 dai carabinieri a Milano, dei due fratelli. Mi faccio ascoltare l'audio, eh? Vada, vada a indagare sull'arresto che è stato parlato nei confronti di Giuseppe Gagliano. E lei scoprirà i veri mandati delle stragi. Lei sta dicendo, rispondendo alla mia domanda, che investigando ancora oggi su quella che è stata la fase della sua cattura nel dennaio del 94, noi saremmo in grado di risalire ai veri responsabili delle stragi. Non solo le persone, è di quello che si cerca pure del signor... Lei ci vuole dire ora chi sono i veri responsabili delle stragi? Ah, io non faccio il bersagato. Allora, io le sto dicendo. Se il carabinieri mi hanno la verità su come sono andati a fare quelli che mi hanno avversato. E tutte le persone che... E le persone che l'ho detto a casa, anche di Agostino, Giuseppe, che l'ha invitato a partecipare a fare il torino da un vicende, e la società di Milano, voi scopriete chi sono i veri mandati. Allora, qui Graviano manda un messaggio chiaro, sembrerebbe. Se volete capire chi mi ha arrestato, chi c'è dietro al mio arresto, indagate sulle stragi. Ma cosa vuol dire, scusi? Io penso che un messaggio più chiaro di così... Ma più chiaro di così, ma no... Chi sapeva che Graviano era a Milano? Chi sapeva che questo D'Agostino doveva portare il figlio a fare il provino nel Milano? Chi lo sapeva? Chi lo sapeva? Chi era il proprietario del Milano? Quindi lei disse addirittura... Presumo, come presume Graviano. Come dice perché non voleva regolarizzare questi soldi che aspettavano a loro, che avevano investito anni fa. Però lei sa che poi, oggi non c'è più l'Avvocato Ghedini, ma si infuriò quando sentì queste parole dicendo... Quando ha sentito un altro programma, si era infuriato, però... Dice che sono tutte fesserie, falsità, calugne... Ma quanti anni sono passati? 12-13 anni che sia io che Graviano diciamo sempre le stesse cose, però non è mai arrivata mezza querela. Lasciamo perdere il Graviano che può essere il Graviano. Ma il Baiardo, potevano querelarlo tranquillamente. Ma mai ha ricevuto querela? Mai ha ricevuto mezz'anni. Lei ha gestito la latitanza? Sì, ho pagato. Quando lui si spostava era sereno e tranquillo, non pensava di essere mai arrestato, no? Tranquillissimo. E quel giorno invece l'hanno arrestato. E ci sarà un perché. Perché lui non se lo aspettava. Ma può essere che i carabinieri abbiano fatto la loro operazione indipendentemente da qualche soffiata? Oppure c'è stata una soffiata, secondo lei? E la soffiata ci sarà stata, di sicuro. Non come si presume, abbiano seguito in treno. Non so, qualche giornalista che ha detto che il Baiardo ha detto che Berlusconi è sceso quattro volte a Palermo a incontrare Graviano. Questo io non l'ho mai detto. Perché io posso garantire che il Graviano non è mai sceso. Sarà sceso un giorno, una volata. Ma era sempre nella zona del Lago d'Orta da lei, sotto la sua tutela. Se non era sulla Lago d'Orta, era a Milano, se non era a Milano era a Sirmione, però era sempre a nord Italia. Non creda la casualità dei carabinieri? No, non ci credo. Non ci credo, anche perché poi ho delle prove recenti. Addirittura, se torniamo indietro all'arresto di Balduccio di Maggio, come faccio a credere ai carabinieri? Perché lei continua a dire che l'arresto di Balduccio di Maggio non è stato fatto, quando lo dicono i carabinieri, ma durante le feste. Dal Santo Stefano all'ultimo dell'anno. Mentre i carabinieri parlano dei giorni dell'8 gennaio. Poi ricordiamo che l'arresto di Totorina, il uomo che portò, Balduccio di Maggio, l'uomo che portò all'arresto, anche contribui all'arresto di Totorina, avviene credo il 15 di gennaio. E perché dovrebbero dire tutte queste menzogne, da quello che mi dice lei? Qual è l'interesse di dire ho arrestato uno dieci giorni prima o dieci giorni dopo? L'hai arrestato? Non lo so. Sono i misteri che avvolgono queste storie. Esatto, non mi do una spiegazione. Poi quando dicono, presumono queste trattative, queste trattative, allora anche io comincio a credere a queste trattative. Perché se deve passare del tempo è perché c'è di mezzo qualcosa. Cioè lei dice, lo dobbiamo gestire e quindi non dobbiamo far sapere quando l'abbiamo fermato, ci stiamo insieme un po'. Perché non mi spieghi queste cose, come hanno fatto il finto subito dopo, hanno fatto il finto arresto di Irina in un'altra casa e non nella villa dove... Poi come si fa a non perquisire una villa di un capo dei capi, come dicevano loro, per tot tempo, finché vuotassero la villa. Perciò le anomalie ci sono, Giletti. E continuano a esserci. E continueranno a esserci. Possiamo dire che la trattativa continua sempre, quindi, sotto sotto. E sarà una trattativa senza fine. Torniamo a Berlusconi, perché lei, Graviano, manda dei messaggi. Ripetiamo che secondo i magistrati non vengono ritenuti credibili. Anche per la difesa dell'avvocato Berlusconi sono solo calugne. Però c'è un altro passaggio che le voglio fare ascoltare. È un passaggio dove si percepisce, anche perché parla in dialetto, Graviano, di un rapporto stretto con... Apparentemente stretto, molto abile, Graviano. Dice delle cose. Gli faccio sentire proprio su Berlusconi. Mi faccio sentire. Che cosa intende lei nel momento in cui Adinolfi dice, ogni volta che ci penso a quel periodo... Lei risponde, avevamo acchiappato i paesi di Chistu, Nimani. Ma forse vuoi... Aspetti. Gli Adinolfi risponde ancora. Ogni volta che ci penso a quel periodo, penso a quello che poteva essere e non è stato per la testa di uno stupido. Sì, è un stupido di Berlusconi, scusa. Mi scusa. Si parla un stupido che si parla veramente di Berlusconi. Cioè, che cosa potrebbe... Visto che io ho un rapporto economico, visto che io ho un rapporto quello, e noi andando a Polito, queste confidenze che avevamo, che si incontrava anche con me, ha scelto che potevamo avere quella bella soddisfazione. Parole chiare. Sì, però che anche fan capire che c'è un rapporto stretto, perché dare dello stupido a Berlusconi non è da tutti. Cioè, quanti miliardi dice che gli aveva dato Graviano, il nonno, il padre, insomma tutto il gruppo Graviano a Berlusconi? Tanti. E poi Berlusconi in praia... Ma non ci avevano in mano niente questi ragazzi? Niente perché erano tutti neri. Però, ripeto, gli avvocati Berlusconi hanno smentito tutto, lo diciamo per l'ennesima volta. Però qui dice che avevano in mano il paese. Cosa vuol dire? Vuol dire che potevano fare tante cose. Se loro erano liberi, se Berlusconi, come poi è stato, è salita la presidenza del Consiglio, tante belle cose avrebbero potuto farle. A livello investimenti, a livello... Ma lei, scusi, ha mai partecipato? Perché so che la polizia ha dimostrato, ha verificato che lei effettivamente, per dire, andava a Olbia. Che ci andava a fare a Olbia con i rapporti con Berlusconi, sempre del Graviano? Allora, a parte che io con la Sardegna ho rapporti dall'81-82, che avevo acquistato degli immobili per me e così, e poi ho gestito anche la latitanza in Sardegna di Giuseppe Graviano. Ecco, ma che ci andavano a fare, scusi? Che ci andava a fare Giuseppe Graviano, latitanza? E' proprio quella villa lì vicino a dove si vocifera... Ci fosse il presidente? Sì. Perché aveva affittato una villa lì vicino? Sì, l'avevamo pagata 200 milioni di vecchie lire, 130 milioni per il mese di agosto e 70 milioni per il mese di settembre. Cifre importanti? Cifre pagate da me. Tutto dai? Con soldi loro, ma tutto. E andava lì come, scusi, giusto per capire, insomma, una valigia, perché 130 milioni è più... Insomma, una cifra... No, al primo anno c'era un contratto regolare come Baillardo Salvatore, come c'è stato da Inus Baldi, il geometra, che aveva l'altra agenzia immobiliare, dove abbiamo preso il... Ed era lì, lì vicino. Il bilocale per... Per noi, per noi. Diciamo per coprire, aiutare. Ma lei non ha mai partecipato a incontri tra Berlusconi e i Graviani in Sardegna? No, no. Lei lo sa che per questo viene ritenuto non credibile quello che dite? Cioè, perché loro, i magistrati, dicono come possibili, gli inquirenti hanno verificato che lei effettivamente andava lì, hanno verificato che c'erano questi contratti? Hanno verificato che il personale ha riconosciuto Tizio e Caio, però... Eh, ma è stato un riconoscimento così. Beh, però potevano essere in vacanza... Insomma, Sardegna è un bel posto. Perché dovevano andare per forza da Berlusconi? Perché avevano un posto migliore per fare la vacanza. Andavano dal suo zio a Muravera, lì in Sardegna, era un posto splendido, una bella tenuta, e si facevano la vacanza lì. E di che parlavano, secondo lei? Eh, ma secondo lei, di che cosa potevano parlare? I giletti erano gli anni clou della nascita del partito di Forza Italia. Erano gli anni clou. Come infatti l'ultima estate è stata l'estate del 1993. Al 1994 è sceso in campo, a gennaio. Sono delle accuse molto forti, glielo ripeto, eh? Sì, sì, sì. Accuse riscontrate anche dalla via. Della presenza in quella zona, sì, ma del rapporto con Berlusconi, no. Questo è il punto. E però le sto dicendo adesso che c'è il rapporto con Berlusconi, lì, in Sardegna. Lei dice, io non ho mai assistito agli incontri tra Berlusconi, presunti incontri tra Berlusconi e i fratelli Graviano, ma alle telefonate con un uomo molto vicino a Berlusconi, Marcello Dell'Utri, ecco, quelle se le ricorda. Sì. Come erano? Beh, non ascoltavo la telefonata, però, Giretti. Ma arrivavano, da dove era quando arrivavano queste telefonate? A Umenia, nella zona. A Umenia, a casa mia, sul Lungolago. Come si presentava? Perché lei, immagino, rispondesse lei al telefono, no? A volte. Loro non hanno mai avuto telefonini, mai. Mai? Non hanno mai tenuto un telefonino. perché hanno già capito che... L'unico riferimento di telefonino era il mio o quello che aveva mia moglie, che a volte glielo lasciavo, se magari io andavo, ma loro non hanno mai avuto un telefonino. Quindi la telefonata arrivava su un telefono fisso o su un cellulare? Sul suo cellulare. Sul cellulare. E come si presentava? E, baladì a qualche telefonata, l'ha riscontrata, da dove arrivava. Ma diceva buonasera, buongiorno, aveva un nome in codice oppure... No, mi passi... Filippo. Ah, perché parlava anche con Filippo, non solo con Giuseppe. Stiamo parlando dell'Amico, non stiamo parlando di Berlusconi. Sì, sì, stiamo parlando di Dell'Utri. E lei come faceva a capire che era Dell'Utri, mi scusi? Si presentava con nome, cognome? Ma questo l'ho capito dal tono delle telefonate, perché la prima volta avevo capito è perché lui ha chiesto proprio se c'era Tizio Caio. E lei dice, la DIA ha confermato? Han trovato dei tabulati. E lei l'ha mai conosciuto personalmente, Dell'Utri? No. Ma neanche una volta che avrebbe dovuto esserci un incontro tra i gladianti e l'assassino? Però io li ho lasciati lì e sono andato via. Perciò non ho visto chi c'era all'interno. A Milano lei lo aveva accompagnato che ci doveva essere un incontro con Dell'Utri? Esatto, Dell'Utri e presumo anche Berlusconi, però io non posso dire di averli visti. Ecco però, perché allora, sempre a processo, Graviano dice, io non ho mai incontrato Dell'Utri, non ho mai avuto a che fare con Dell'Utri? Allora magari non c'era lui, e cosa ne so io? No, perché ogni tanto mi sembra che lei dica una cosa, e poi Graviano ne dice un'altra. Sono degli scambi strani. Ho la mia sensazione. Con uno come Graviano, lei poteva fare domande o doveva solo ascoltare? Potevo fare domande di altro genere, non di quel genere. Di quel genere, se voleva parlare Graviano, parlava Graviano. Se voleva dirmi qualcosa Graviano, me la diceva, ma non mi sono mai permesso di fare domande in certi ambiti. Quindi questo ristorante dell'assassino, come faceva lei a dirmi, c'è Dell'Utri? Perché gli avrà detto... E ridiamoci, ridiamoci, diretti. Certo che, sembra quasi che sia fatto apposta, non dare mai un segnale vero, o si gira sempre intorno, si lanciano messaggi. Torniamo al discorso di prima. Sarà ancora la trattativa famosa, che continua. Lei dice? Presumo. Quindi lei mi dice, io Dell'Utri non l'ho mai visto, l'ho solo sentito al telefono. Ma tante volte? No. Anche perché non... Il più delle volte lasciavo il telefonino, che quando si vedeva i numeri... In dotazione, cioè vedeva il numero e rispondeva direttamente... E secondo lei come mai dice che non l'ha mai conosciuto allora Graviano? Non lo so. E' una strategia anche quella? Cioè dire non dire è una strategia? Presumo. Io non posso essere nella testa di Graviano. Io posso dire quello che... Posso dire che ho visto, che ho sentito. Ecco, però poi vede che la credibilità, alla fine, se si danno versioni contrastanti, i magistrati e gli avvocati della difesa di Berlusconi hanno il buon gioco a dire ecco, vedete, stanno raccontandoci delle fesserie. Giletti, io le sto dicendo delle cose che la DIA ha riscontrato. Le ha dette anche a processo a Firenze adesso? Adesso mi... Lei è stato chiamato o no? Sono stato chiamato dalla procura di Firenze per quattro interrogatori. Con chi ha avuto il colloquio, l'interrogatorio? Col procuratore... Adesso mi scusano... Luca Tescaroli. E poi c'era l'altro aggiunto lì, come si chiama... Quindi ha parlato, l'hanno ascoltata per molto tempo. Quattro interrogatori abbiamo fatto. Anche Graviano ha parlato, mi sembra, no? E dopo sono andati anche in carcere da Graviano. Però da lì, devo dire sinceramente, non è mai trappelato nulla. Tutto secretato, non è mai trappelato nulla. Strano, perché di solito, si dice che dalle procure... Arrivano subito i giornalisti. È, è scato qualcosa. Invece in questo senso il dottor Tescaroli ha fatto... Sì, 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 molta serietà. C'è molto serio? Sì. E cosa le ha chiesto, se posso... Eh, se sono secretati, le me lo chiedono a me. Non parlano lì in procura. Giletti, faccia il bravo. Ma avete parlato, posso solo chiedere del rapporto, di quello, delle cose di cui stiamo parlando adesso? Di quello che stiamo parlando adesso. E quindi è sempre viva questa pista dei rapporti tra i fratelli Graviano e Berlusconi? Firenze non l'ha ancora chiusa. le voglio fare ascoltare un altro passaggio. Sentiamo. sempre Graviano, in carcere, interrogato dai magistrati, dice una cosa particolare. Su di me? No, in generale, ascolti. Vieni invitato a investire dei soldi al nord, in quale campo e per realizzare che cosa? Dall'edilizia, perché prima andava forte all'edilizia. E poi tutto quello che è successo, perché il contatto è con il signor Berlusconi. Su se sei del primo incontro tra lei e Berlusconi? Io, se non è, è l'hotel Quark. Perché io dico l'hotel Quark? Perché in questo hotel io poi l'ho frequentata e non capisco come mai. Un esempio, io ho trascorso la notte di Capodanno, il Vignolo, 89-90, all'hotel Quark. Poi quando è salito D'Agostino, sono stato io a dire di andare all'hotel Quark e allora beccavano all'hotel Quark. Quindi, io se non ero all'hotel Quark. Chi era presente al tra lei e Berlusconi? Il mio cugino Salvatore, il mio nonno, questo era lo felice, che si è presentato. Quindi Berlusconi era solo? Sì, solo, solo, no, era solo. Nel 93 c'è una riunione di nuovo a Milano. Quindi, mi scusi, nel dicembre 93 che appuntamento c'è? C'è un appuntamento preliminare per fissare una riunione poi del 94? Allora, c'è un appuntamento che siccome aveva detto di sì il signor Berlusconi, il mio cugino mi ha detto, dice, senta, vedo che intenzione ha, se viene anche tu è ascoltato. E quindi vi siete incontrati lei, suo cugino e Berlusconi? Sì. Dove? Sì, a Milano, ma la presenza di chi? Berlusconi anche qui era da solo? Sì, da solo. Se c'erano altri io non chiedevo chi erano e chi non erano. Non mi interessava la cosa. Lei sa che anche qui non è stato creduto, cioè, non viene ritenuto non credibile. Questi riscontri, gli incontri all'albergo, però ha un altro messaggio che manda. Sì, però han fatto, c'è stato un mezzo riscontro di quello che diceva lui all'interno dell'appartamento, si vedeva la caserma dei Carabinieri, che c'era questo viale con la portina. Lui, come poteva sapere queste cose, essendo già stato subito dopo arrestato? Sì, la domanda però che io le faccio, tutti questi messaggi che Graviano sta mandando, è un uomo che ormai tra poco farà trent'anni di carcere duro, no? Perché se ha davvero delle carte in mano serie, credibili, verificabili, non le tira fuori? Qual è il vantaggio di stare in carcere se ha davvero questi elementi? Potrebbe fare una trattativa con lo Stato, magari, uso una parola impropria, e dire, io vi dico una cosa, voi, visto che adesso trent'anni sono tanti, Graviano non è uno spattuzza, Graviano non è un tranchina, Graviano non è tanti altri collaboratori di giustizia, cioè uno che non... Graviano dice, boh, ho sbagliato in determinate cose, sto pagando, punto, basta, poi quando uscirò mi rifarò una vita pulita, tranquilla, ho un figlio, perciò Graviano la sua intenzione è quella di rifarsi una vita pulita, Lei crede avvero che lui abbia incontrato Berlusconi all'albergo Quark tutte queste volte? E presumo di sì, perché Graviano non ha bisogno di raccontare delle fesserie o di inventarsi delle cose, a che beneficio dopo trent'anni di galera? A che beneficio? No, dico, lei sa che... può mandare a lui dei messaggi, penso, per dire, guarda che io sono ancora qua, mi sono fatto la galera. Ma che servono? Perché si è fatto la galera quando... poteva raccontare qualcosa di più, poteva dare degli elementi di più e lei dice, ah ma lui non tratta col sistema, però continua a mandargli questi messaggi a Berlusconi, sono evidenti, io non è che dico ce l'ho coi pentiti, io il pentito lo definisco pentito quando io da uomo libero ne ho fatte peggio di Bertoldo, prendo, mi vado a presentare in una caserma dei carabinieri e dico, io sono Tranchina, io sono Spatuzza, voglio pentirmi di questo, 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 ma lei non ha mai conosciuto un pentito così? Io gli ho sempre conosciuti i pentiti dopo che li hanno arrestati, tutti si pentono dopo, ma se uno si pente di qualcosa che ha fatto di brutto, di sgradevole, come uno Spatuzza o un Brusca che hanno sciolto un bambino nell'acido, il rimorso lo dovevi avere non adesso, ieri. Quello è un accordo che ha fatto lo Stato per incidere come era inciso nel terrorismo con le Brigate Rosse, i pentiti hanno portato a distruzione anche le Brigate Rosse, forse hanno provato a fare questa strategia. Ma questi sono accordi che hanno agevolato tanti collaboratori di giustizia, hanno preso tanti quattrini, hanno fatto meno carcere, perciò io non lo vedo come un pentimento puro, non lo vedo con lui. Quindi lei dice, ammiro più un graviano? Sì, io mi faccio la galera, adesso dico delle cose che magari possono portare degli investigatori a fare il loro lavoro di investigatori, non lo posso fare io l'investigatore come ha detto giustamente lui. io non faccio investigatori, io vi dico delle cose, però capisce che poi tutto viene vanificato dagli avvocati di Berlusconi che hanno gioco facile a dire beh, ma ci vogliono dei riscontri come giusto che sia, non basta dire ci vanno dei riscontri e quindi ecco che ho la sensazione che lui mandi dei messaggi per che cosa, visto che continua a stare in carcere. Giletti, l'unica sua speranza e sinceramente me lo auguro anche io per loro perché sono giovani, perché che venga abrogato o stergastro lo stativo e comincino a godersi veramente un po' la famiglia, i figli perché non è gente così tra tre giorni la Corte Costituzionale decide c'è anche un governo nuovo lei lo diceva prima e magari chi lo sa che arriva un regalino che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso e così arrestando lui magari esce qualcuno che è all'ergastro lo stativo senza che ci sia clamore. Cioè lei mi sta dicendo che Matteo Messina Denaro non sta bene e quindi se lei lo sa è perché continua ad avere rapporti in questo mondo perché comunque le presume via con il Graviano lei ha intrecci con i parenti immagino non ha rotto i rapporti con il sistema intorno al Graviano che lei sta dicendo una cosa forte e mi sta dicendo che siccome non sta bene questo potrebbe essere un colpo molto forte per il nuovo governo appena arriva si insedia è un fiore all'occhiello e il governo c'è Berlusconi anche e può essere un come si dice un bel regalino però questo vuol dire che non mi dica che penso male qualcuno potrebbe dare delle indicazioni come forse vennero date per la cattura di Totorina tutto è possibile e far sembrare tutto casuale e in realtà è tutto a una finalità è tutto magari programmato già da da tempo per poi far uscire qualcuno dal carcere senza che sia un clamore tutto è possibile Giletti e questo però contraddice quello che diceva lei che dice io Graviano non parla non dice in effetti cosa dice Graviano cosa parla Graviano ma se si sa che Matteo Messina Denaro non sta bene che forse potrebbe arrivare a un accordo si sa si presume se lì dice si presume io credo che si sappia quindi lei mi sta facendo raccontando uno scenario che potrebbe realizzarsi da qui a poco il generale Delfino tornando indietro negli anni generale i Carabinieri che anche lui aveva la casa vicino al lago d'Orte cosa c'entra Delfino che non c'è più in questa vicenda ecco non bisogna parlare di che non c'è più ma siccome è storia che si legge cosa aveva detto all'allora ministro di grazia e giustizia Martelli le faccio un regalo le consegnerò prima di Natale chi? Totorina Totorina e cosa è successo? 15 giorni dopo 20 giorni dopo Natale perciò secondo lei ci sarà stata una trattativa o no per l'arresto di Totorina e qui la trattativa tra chi sarebbe però? e questo non me lo chiede Giletti però lei mi fa capire che la famosa trattativa non è mai finita allora e ne mai finirà prima ha detto e quando avverrebbe questa ipotetica ipotetico arresto di Matteo Messina a denaro Giletti ci sono delle date che parlano non è che il Baillardo si sta inventando ma lei ha detto che quando allo Stato farà comodo oppure lui non servirà più questo l'avevo già detto in tempi non sospetti verrà preso è arrivato questo periodo questo momento presumo presumo di sì ed è intrecciato con lo stativo presumo di sì sono quelle trattative che tu dè una cosa mia presumo che siano così come sono state negli anni addietro abbiamo un esempio e non è che certo lascia perplessi tutto questo lascia perplessi se si avvererà se non si avvera la gente dice guarda il Baillardo ha raccontato un'altra fesseria allora ci vedremo magari su questo mare o sul lago d'Orta sicuramente così anche Giletti mi dirà Baillardo cosa mi ha combinato mi ha fatto dire fesserie avvocato di Goti lei ha difeso i più grandi pentiti di mafia e conosce molto bene Baillardo che ha detto delle cose molto importanti anche inquietanti lui dice sostanzialmente la trattativa non si è mai conclusa e tra poco Matteo Messina potrebbe essere catturato come fu catturato Totorino facendo capire che c'è un accordo la sorprende? no in materia di mafia non mi sorprende nulla quindi tutto è possibile è possibile anche che visto che Baillardo parla di una malattia è possibile che per poterne parlare deve sapere qualcosa e quindi il legame che Baillardo storicamente ha avendo protetto la latitanza dei fratelli Graviano che sono in carcere può anche mandare dei messaggi certo può aver mandato dei messaggi ci vogliono orecchie attenti per decifrarli e non è facile probabilmente il messaggio se ha mandato un messaggio c'è qualcuno che può capirlo non è che debbano capirlo tutti qualcuno è qualcuno che può capirlo e qualcuno sa che quel messaggio arriva a lui certo ripeto se si dovesse avverare è molto inquietante però torniamo all'oggi lunedì di questa settimana il governo Meloni ha emanato un decreto tutta la grande polemica che c'è stata sull'ergastolo ostativo la sua abolizione eccetera per i miei ricordi di universitario di legge questo decreto ha delle profonde basi di incostituzionalità è d'accordo? Sì la Corte Costituzionale è già intervenuta sulla materia con due sentenze molto importanti del 2020 cui ha ritenuto che sicuramente gli elementi che attengono l'esecuzione della pena ma che afferiscono all'aspettativa di liberazione del detenuto hanno natura sostanziale il che significa che non possono essere retroattivi mentre il decreto pone una base di retroattività il decreto pone una base di retroattività ma la retroattività non può riguardare le situazioni peggiorative le cosiddette situazioni in malam parte il che significa che il decreto avrà efficacia dal lunedì quando è stato pubblicato in gazzetta ufficiale in avanti quindi per tutti quelli che sono in carri i grandi boss mafiosi questo decreto è inapplicabile ma questo scusi vuol dire che in pratica i boss potrebbero avere diritto di accedere ai benefici dopo 26 anni circa no diciamo dopo 21 perché c'è la liberazione anticipata che si matura ah i famosi tre mesi che ogni anno si tolgono quindi mi scusi sono 30 mesi ogni 10 anni quindi un ergastolano uno che ha preso l'ergastol a 21 anni astrettamente può chiedere di accedere ai benefici alla liberazione condizionale quindi tutto torna nelle mani dei giudici dei tribunali di sorveglianza di uno dei tanti tribunali di sorveglianza ma questo è il rischio quindi ho la certezza che Baiardo quando ci parlava sapeva benissimo quindi che i suoi diciamo punti di riferimento potrebbero uscire rischiamo di vedere fuori dalle carceri probabilmente super boss perché ci sono i paletti previsti però il rischio c'è è tutta materia di valutazione dei giudici l'8 novembre tra tre giorni c'è la decisione della corte costituzionale che adesso si trova di fronte per un decreto è una materia diversa da quella esaminata quindi potrebbe prendere atto di questo anche se io presumo che qualcosa dirà qualcosa come potrebbe per esempio dire che richiamando già le sentenze pronunziate che in Malabepart non è retroattiva l'avvocato Rigotti ha difeso uomini importanti della mafia pentiti Buscetta Brusca tanti altri anche Gaspare Mutulo ecco Mutulo che in questo momento è al di là di queste telecamere ha deciso questa sera a suo rischio di far vedere il suo volto no non lo so spiegato in verità non ho parlato con lui non parlo con lui da molti anni però non riesco a capire questa sua scelta indubbiamente è una scelta abbastanza rischiosa è vero era apparsa in qualche fotografia però è diversa l'apparizione in un antiflu in cui si fissa molto di più l'immagine di una persona e anche le sue novenze le sue espressioni la sua voce è un complesso di indicatori di una persona che lo espongono al rischio io non capisco il perché di questa scelta anche perché la mafia non dimentica e non perdona ma no la mafia non dimentica non ha mai dimenticato ha sempre cercato di eseguire le condanne a morte per coloro che avevano tradito lei dice io non lo sento da molti anni però lei è stato il suo primo difensore nel momento in cui lui decise di pentirsi e di collaborare con lo Stato ecco ci vuole tracciare l'importanza di Gaspari Mutolo chi è? perché lei l'ha visto senza maschera sì io l'ho visto senza maschera io ho iniziato ad assisterlo non proprio all'inizio della collaborazione perché Gaspari Mutolo comincia ad avere dei contatti essendo nel carcere di Spoletta arrestato per traffici di droga era in carcere a Spoleto ma capì anzi lo seppe direttamente da un suo caro amico che sarebbe stato ucciso e allora capì che l'unica possibilità era quella di diventare un collaboratore e quindi chiese dei contatti cominciò ad averli questo nel 1991 li ebbe con la DIA che era all'inizio proprio proprio all'inizio li ebbe con il procuratore di Firenze Vigna con altri magistrati della procura di Firenze ai quali ovviamente raccontò le sue attività criminali che continuava a svolgere per le quali era stato arrestato e si trovava a Spoleto quindi raccontò ciò che avveniva in Toscana ma era un uomo importante nel senso che era l'uomo che stava spesso con Totorina faceva il suo autista lo ascoltava vedeva dove andava chi incontrava cioè era un uomo che vedeva quello che faceva Totorina era importante perché Gaspari Mutulo è stato l'uomo di fiducia di Totorina facendone l'autista il che significa uomo di grande fiducia di grande spessore criminale perché essere l'autista del capo dei capi significa essere pronti anche all'azione diciamo che lui è stato avuto 20 omicidi il personale ed è entrato in altri 70 omicidi quindi era un uomo che non aveva paura di uccidere assolutamente quindi indubbiamente ebbe modo di ascoltare e di vedere questa è l'importanza di Gaspari Mutulo non era l'uomo che decideva perché non era un capo ma era un uomo che ha avuto la possibilità frequentando per forza i vertici essendo l'autista del capo dei capi di poter vedere e poter ascoltare quindi il suo contributo collaborativo fu sicuramente di estrema importanza primo luglio del 1992 è una data fondamentale nella storia di quest'uomo e lei era lì vicino a lui che cosa succede quel giorno? il primo luglio del 1992 è sempre lontanissimo eppure lo vediamo in termini di attualità perché tutt'ora è avvolto dai misteri tutt'ora e io penso che i misteri non si scioglieranno io purtroppo sono pessimista su questo ma il primo luglio Mutolo ha il primo incontro con Paolo Borsellini in quella sede io ero presente a quel primo interrogatorio e in quell'occasione che conosco Gaspari Mutolo avviene in un appartamento anonimo a Roma a Roma dalle parti di Piazza della Libertà a Roma vicino all'alto commissariato antimafia ma non all'alto commissariato antimafia questo perché era talmente delicato l'incontro tra Borsellino e Gaspari Mutolo che nessuno doveva sapere ma nemmeno l'alto commissariato neanche l'alto commissariato ecco e invece e invece qualcuno durante l'interrogatorio telefona succede qualche cosa nel senso che durante l'interrogatorio erano già da un paio di ore che andava avanti l'interrogatorio due ore e mezza durante l'interrogatorio Borsellino il dottor Paolo Borsellino riceve una telefonata da parte del capo della polizia Parisi che lo sollecita a recarsi al ministero degli interni per incontrare il nuovo ministro era stato appena nominato nuovo ministro degli interni Nicola Mancino al posto dell'onorevole Enzo Scott e quindi Borsellino interruppe l'interrogatorio si recò a questo incontro e quando rientrò dopo un'ora un'ora e mezza Mutolo riferì di averlo visto molto preoccupato anzi riferì a un particolare che Borsellino accese due sigarette quasi contemporaneamente a dire la verità io anche se l'episodio poteva avvenire io non l'ho colsi perché avevo visto altri momenti dello stesso tipo cioè Borsellino era uno che amava fumare la stessa cosa era successa quando interrogò Calcara all'indomani della strage di Capaci ecco però mi scusi perché è importante che cos'era successo al ministero dell'Incerno che andando al ministero Mancino ricorda che il capo della polizia a Parisi gli disse che era in arrivo Borsellino per salutarlo però Mancino disse di non ricordare di averli incontrato cioè ricorda il particolare di Parisi non ricorda l'incontro anzi aggiunge qualcosa di forse sgradevole disse io in fondo non è che avessi questa grande conoscenza di Borsellino quindi era un magistrato primo punto interrogativo non ricorda il secondo passaggio però importante è che c'era Contrada questo è il passaggio importante che era lì nell'anticamera Contrada era un uomo molto importante dell'istituzione non solo c'era Contrada ma Contrada sapeva che era interrogato Mutolo questa era la cosa importante era un interrogatorio segretissimo e invece Contrada avrebbe detto ne era conoscenza avrebbe detto a Borsellino in quell'anticamera sono a disposizione so che sta interrogando Mutolo dia a Mutolo che sono a disposizione era un messaggio però mi scusi Pino Arlacchi io non voglio alimentare altre polemiche però Pino Arlacchi senatore molto conosciuto all'epoca disse che non era vero che non era andato assolutamente al ministero Borsellino ma era addirittura andato a casa sua no a casa sua Pino Arlacchi col quale avemmo grossi scontri quando era parlamentare europeo disse che non era vero che ci fosse stato questo incontro al ministero con 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 Parisi con Parisi e con Contrada quindi con Contrada e tantomeno con Mancino con il ministro perché invece Borsellino interruppe l'interrogatorio per recarsi nel suo ufficio da quelle parti sempre quella zona di Roma perché fare questa copertura cioè dire non è vero che c'è stato un incontro al ministero sono venuti da me perché se l'hai mai chiesto abbiamo litigato diverse volte negava una realtà figuriamoci un interrogatorio così importante che Borsellino lo avrebbe interrotto per andare da Arlacchi e Arlacchi dice che il motivo dell'incontro era la sua eventuale nomina procuratore nazionale antimafia ma Borsellino in quel momento era concentrato su ben altre cose su ben altre cose quindi io non capisco Arlacchi perché ha dovuto offrire questo suo schermo a questi uomini delle istituzioni negando un fatto non vi siete mai chiariti no perché lui ha continuato a negare ma d'altra parte Arlacchi è quello che nega che sia stata anche una sorta di trattativa ormai la trattativa è un fatto storico accertato anche con la sentenza di appello sì questo è stato accertato anche con la sentenza di appello la trattativa c'è stata non si sa per tornare a Gaspari Mutolo Totorina soffrì moltissimo la collaborazione di Gaspari Mutolo tant'è vero che nel 1996 proprio a Mestre all'Aula Bunker di Mestre Totorina dopo che Gaspari Mutolo aveva parlato per alcune ore Totorina chiese di poter intervenire e lo aggredì violentemente definendolo cagnazzo di bancata cioè cane del banco del macellaio che aspetta un osso allora la ringrazio perché è stato importante introdurre la figura di Gaspari Mutolo che ci sta aspettando dall'altra parte e lei ha ricordato un episodio un altro scontro che c'era stato lei a Mestre adesso le faccio vedere anche un altro confronto avvenne a Rebibbia c'è proprio un faccia a faccia tra Mutolo e Totorina non gli andava giù a Totorina che Mutolo avesse aperto tutta la sua conoscenza l'avesse offerta alle forze dell'ordine siamo nel 93 le persone in galera non facevano niente se non lo sapeva Salvatore Rino io ce l'ho detto che l'altra volta e glielo dico di nuovo a me quando mi hanno sequestrato va bene quel po' che avevo frutto di trapo che io facevo il droghiere va bene io ho scritto a Salvatore Rino in qualche modo mi ha agevolato però non mi ha fatto dare niente perché io dovevo fare la fine del ricobono guarda Mutolo io a te te l'ho detto la volta e te lo dico sempre io a te non ti ho visto più a te non ho ricevuto lettere io sì è vero che ti aiutava quando eri in caccia per le disgrazie lui andava anche a casa mia a portarti i soldi prima per le disgrazie quando eri in caccia io che sto a dire le disgrazie che tu eri in caccia e cose ma perché io ero ma e quel bene però era ricambiato cioè non è per il tutto che mi si dava io non mi cambiavo per cento volte va bene dopo però uccidere uccidere a delle persone semplicemente io con te non ucciso nessuno io non ucciso niente io mi trovo guarda Mutolo io mi trovo carcerato io mi trovo carcerato e faccio il carcerato sono tragiriato e continuo a essere tragiriato però faccio il carcerato e faccio la persona seria purtroppo io lo so che il trattamento per me sarà a tipomatologia il più peggio però io spero che questa possibilità non ve la do va bene non è ma sparino logicamente potrò fare a fine di qualche altra persona va bene ma tanto insomma che problemi di questo non me ne ho creato mai e non me ne creerò mai va bene però ma te lo vecchio insomma siamo noi noi parliamo quando ancora insomma diciamo stibbiate paole aveva un codice d'onore aveva ripeto una moralità una dignità personale almeno le donne non si ammazzavano i piccirigli non si ammazzavano questo con l'entrata vostra dei colleghi e badalamente lo diceva va bene e badalamente lo diceva chi si sono consumati e possono consumare a tutti e non si sbagliava e non si sbagliava ci sei tu ora che sei no 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 e infatti bastevole per tutte quello che stai facendo tu è bastevole per tutte quindi l'uomo che vedete in ombra mostrerà per la prima volta la sua faccia in televisione è stato un feroce killer della mafia braccio destro di ricco bono soprattutto uomo vicinissimo a totorina con cui ha condiviso anche per otto mesi la cella in carcere è stato in prigione per 30 anni poi si è dato latitante però c'è una data nella sua storia che gli fa nasce una nuova vita è il primo luglio del 92 quando decide di affidare la propria vita a Paolo Borsellino ed è molto importante il suo racconto non solo perché racconta quelle che sono le dinamiche interne di cosa nostra ma soprattutto perché fa luce su alcune persone che hanno tradito lo Stato allora io gliela faccio per scrupolo questa domanda ma lei sa che tra poco noi decideremo di accendere una luce su di lei è sicuro di volersi fare vedere? certo non credevo che avesse arrivato questo momento e questo momento è arrivato e ne sono molto contento non ha nessun dubbio? lei sa che Cosa Nostra no ha stabilito diciamo la condanna a morte per lei ma questa è una cosa che lo sapevo da 30 anni ma non ci ho fatto mai caso perché è una cosa che sapevo a che cosa andavo incontro e sono stato contento felice di proseguire questa strada però lei sa che tra qualche istante nel momento in cui io accenderò la luce su di lei la sua vita cambierà perché tutti sapranno chi è lei come è fatto fisicamente sì su questo ne volevo parlare io direttamente perché diciamo voi giornalisti o giudici o scrittore ne parlate soltanto di un lato il lato brutto non non parlate mai del lato buono lei come persona come individuo che a un certo punto io fino a 50 anni ho fatto del male dopo i 50 anni mi sono dedicato a fare del bene quindi lei dice io adesso entro da tempo sono entrato in una nuova vita ed è giusto che mi si veda per quello che sono esatto esatto anche per dare l'esempio perché io ho dato l'esempio perché sono stato uno dei primi che ho fatto tante cose adesso le scopriremo quindi possiamo accendere la luce senz'altro nella maniera più tranquilla e allora accendiamola questa luce perché così possiamo vedere in volto Gaspare Mutolo buonasera grazie di avermi invitato come si sente adesso il re è nudo mi sento bene soltanto ho ho diciamo sarei stato più contento se accanto a me ci sarebbe stato anche mia moglie avrebbe condiviso la sua scelta di farsi vedere oggi sì signore mia moglie quando ci siamo sposati quasi 60 anni fa sapevo che ero io quindi condivideva tutte le scelte perché in fondo in fondo diciamo qualche cosa di buono che c'era in me lei l'aveva scoperto prima di me e prima di tanti altri ma noi non possiamo non ricordare che lei è un killer che ha ucciso per cosa nostra è stato con uomini molto importanti quindi io voglio ricostruire questa sera la sua storia lei non apparteneva a una famiglia mafiosa però mi è rimasto impresso una cosa che mi ha detto che da bambino aveva un talento per il male ma io infatti a me mi hanno espulso di tutte le scuole perché diciamo ho reagito verso il maestro che ci ho dato un calcio nello stinco qua ci ho fatto male ho scappato e ho rotto tutti i vetri che c'erano alla scuola quindi quando lei dice che aveva un po' il talento per il male che cosa vuol dire? ero portato anche perché sono cresciuto io che per mangiare dovevo andare a rubare cioè la realtà era questo quando sono nato io nel 40 quando nel 45 che mi ricordo ancora io che c'erano gli americani con le mazzarelle ma i ragazzi non solo io ma quelli della mia età andavamo in campagna per mangiare per rubare cioè io che sto cresciuto rubando per me rubare era una cosa normale certo diventare mafioso era un sogno e trovarmi qui non l'avrei mai pensato è una realtà che ora che sono qua di fronte a lei e di fronte a tante persone che possono ma quando lei dice per un bambino diventare mafioso era un sogno che cosa vuol dire? cerco di spiegarmi io abbiamo scritto con una signora con Maria Santamaria un libro che lo chiamiamo ci ha messo il nome Cavalli di Razza come si riconosce io ci ho spiegato come si riconosceva un mafioso cioè io da bambino non sapevo cosa era la mafia però intuivo che quello poteva essere un mafioso ma non si sapeva niente della mafia e i peti dicevano che era una propaganda giornalistica qualche atto cardinale diceva che hanno sbagliato il nome viceversa di mafia scrivere mafia insomma era tutta una fantasia allora io ci ho portato il paragone come si riconosceva un mafioso che un cavallo per esempio della stessa razza c'era quello puro e quello che era un pochettino bastardo quello puro era quello mafioso insomma si vedeva di come andava vestito di come si spiegava di come di come si comportava perché io in quel periodo lavoravo da bambino in un'officina meccanica da un cento vetrano salvatore vicino alla stazione centrale questo era un uomo d'onore però un uomo d'onore di quello buono perché la mafia non era quella che noi conosciamo negli anni settanta in poi come era quella mafia ma era una mafia che se una persona sbagliava veniva sospeso non è che si uccideva se un mafioso per esempio sbagliava ma era raramente che moriva la famiglia era protetta cioè c'erano guardi io quando che sono per farci capire la mafia quando io sono entrato e di come mi sono affezionato alla mafia e quando uscito perché sono uscito quando nel 1973 io entro nella mafia verso il 1974 cioè io entro nel gruppo di Saro Riccobono amico di Salvatore Rina che io avevo un tascorso con Salvatore Rina si dovevano eliminare tutti i mafiosi per prendere possesso noi il gruppo non c'era una famiglia ancora di Riccobono hanno sparato a Vincenzo Nicolette che era il capo il capo mafia che c'era a palla vicino questo non muore va all'ospedale siccome era successo all'ospedale qualche ferito i mafiosi che si vestivano e andavano a ucciderlo si fa portare a casa questo aveva figli nipoti si manda a dire che se lui voleva salvare i figli perché aveva due figli maschi lui si faceva trovare al bar a palla vicino alle 5 e mezza di sera lui moriva però tutta la sua famiglia era garantita era salvata questo vecchietto ferito che ancora aveva la gaza nel collo Vincenzo Nicoletti non è è un uomo insomma che si può vedere che era alle 5 e mezza si fa trovare al bar passiamo con la macchina io Riccobono e Michalizzi Salvatore con le anime per spararci però vediamo a questo vecchietto con questa gaza ci guardiamo negli occhi nessuno ha avuto il coraggio di sparare e ce ne siamo andati si ci mandò a dire di non fare più niente di non mi scassi niente questo è morto di sua questa dice lei questa era la mafia degli anni 70 degli anni 60 poi ci arriviamo però intanto con lei siamo andati a Mondello perché lei è cresciuto a Mondello e c'è un suo compagno di cella tal John Bonaventure che diceva facciamo un paragone coi conigli i conigli sono un po' come i palermitani diceva lui no? noi palermitani siamo come i conigli cioè quando ci sono i cacciatori scappiamo poi però torniamo nella nostra età anche se sappiamo che i cacciatori ci vogliono e ci aspettano perché lì vogliamo morire che effetto le fa guardare quella montagna quando era lì da bambino insomma sono anni che lei non torna qui io precisamente anche non torno qua dall'82 perché sono stato in galera nel master processo dopo sono uscito sono stato fuori l'Italia l'effetto che mi fa mi venne da piangere perché rivedo tutta la mia storia da bambino a quando dopo sono diventato adulto quando eravate qua giocavate a pallone immagino ma nella piazza nella piazza di Mondello quando negli anni 60 si giocava a pallone allora non è che c'erano macchine le 58 io mi ricordo che c'era Bruno Dossena che era il primo ballerino italiano che aveva preso Bruno Dossena e noi tutti nella piazza di Mondello che ballevamo i rock and roll allora avevo 18 anni quindi vedere questo mare oggi a distanza di 30 anni ma questo mare mi fa sognare mi fa pensare tante cose belle mi fa pensare quando venivo con i miei figli parlando di questo io mi metto a piangere quindi devo cambiare il discorso perché? sente un po' di senso di colpa? ma il senso di colpa perché mi rendo conto che quelli che soffrono realmente dopo sono i figli diciamo di questo cambiamento che viene nella famiglia cosa che lo Stato magari non compende non capisce quando uno parla e c'è i figli che hanno 15 anni 30 anni 10 anni e debbono cambiare luogo abitudine ma è una cosa terribile ma gliel'hanno rinfacciato i figli hanno capito che lei cambiava ma io l'ho capito io o hanno fatto fatica no no l'ho capito io perché i miei figli giustamente a un certo punto non compendevano magari lo possono capire da grande ma da giovane che capiscono perché debbono lasciare i loro amici cioè non lo compendono magari col tempo che lo compendono e dopo magari non capiscono la scelta perché magari io per esempio a un certo punto ho fatto il collaboratore perché ho voluto cambiare le cose non è che ho fatto il collaboratore così ma lei dice io sono un condannato a morte no Erecchino non ha paura a tornare qui ma se viene eseguita questa condanna io non ho paura perché nel mio cuore io ho fatto del bene non del male quindi se ci sono lei dice io ho ucciso per 30 anni ma per gli altri 30 ho fatto qualcosa di positivo sì ma ho fatto tanto io da positivo che ci vorrebbero tante trasmissioni e non una Chi è più forte la politica o la mafia? Ma guarda c'è c'è un interscambio la politica si sente più forte perché comanda lei e fa le leggi i mafiosi si sentono più forti perché il politico ha bisogno diciamo del voto di scambio perché tutto là è discosto ma i veri i veri potenti i veri potenti sai che sono i veri quelli che gli avvocati gli avvocati che sono al Parlamento sono la rovina dell'Italia è fortuna che noi abbiamo questa magistratura che dicono che i magistrati si comportano male no no i magistrati per mentre un politico sotto inchiesta secondo la mia esperienza ha la certezza dal 110% adesso c'è chi dice che Mattarella per esempio Piazzanti Mattarella il fratello del Presidente della Repubblica sia stato ucciso diciamo dai fascisti per fare un favore alla mafia lei in quegli anni era lì era dentro guardi ho seguito molto bene queste cose ci sono state un sacco di sfumature però se lei guarda che dicono che abbia potuto essere Fioravanti se lei guarda la foto di Nino Madonia di allora e la foto di Fioravanti lei vede che sono uguali quindi quando la moglie di Pessante Mattarella dice sembrava un ragazzo ma non è che sbagliava lei guardi a Madonia che è un killer spietato quello si sognava sempre ma non lui lui con tutta la sua razza di uccidere sempre non è che noi quando ci siamo andati passo di una parola all'altro che Enrico Bono ci ha detto al padre di farsi la famiglia non è che ci ha detto grazie chi si deve uccidere e dopo tutti gli omichidi che sono stati fatti nelle loro zone l'hanno fatto sempre loro quindi lei dice è la mafia che ha ucciso Mattarella ma al 100% quando è che lei ha capito che era diventato un uomo d'onore guardi io forse ero l'unico mafioso che non mi litigavo perché se io mi litigavo con qualcuno e ricevevo uno schiaffo ho torto ragione chi mi dava lo schiaffo moriva era una legge per tutti quindi io nella maniera più astoluto non mi litigavo mai il discorso più diciamo e trattante è stato che a Valdese vengo tamponato ma io sono con mia moglie i bambini di un'altra macchina forse era un pochettino malattino questo allora io scendo che della macchina e questo mi vuole a salire dicendomi che avevo torto perché avevo fermato e lui mi aveva tamponato e io ci spiego guarda è passata una donna una vecchietta non ricordo la poteva investire insomma io per forza ci ho dovuto fare l'assicurazione ci ho detto come mi chiamavo ma dopo qualche mezz'oretta c'era un battebecco la sera verso le undici e mezza sento suonare il campanello mia moglie dice la polizia però guardo che avevo lo spironcino ed era questo che subito mi diceva mi deve scusare mi deve perdonare cioè questo si era informato magari con qualcuno che era questo che aveva sbattuto tipo che aveva fatto una cosa malandrina che si è fatto fare il aveva capito aveva saputo era mafioso per carità lì lei capisce che i mafiosi però erano molto rispettati in un certo tipo di mondo ma io guardi ci sono episodi molto più importanti per esempio c'era un certo Salvatore Lopiccolo un mafioso importante di là che una sera lì lo spato l'estero ricco e buono ci dice andate a sparare a questo ragazzo non mi ricordo in questo momento come si chiamava allora questo c'era la moglie incinta e io ci faccio sentire ma facciamo qualche cosa no no l'abbiamo avvisato diverse volte insomma in sostanza io e lo piccolo Salvatore che ancora vivo e lo può dire viceversa di andarlo a sparare che veniva più facile abbiamo comprato la benzina ce la siamo buttato sulla macchina lui era seduto nella veranda ci ha messo a dire parolacce noi ci abbiamo bruciato la macchina io dopo ho telefonato alla moglie che ho detto andate via da Palermo altrimenti il bambino che ti nasce nasce orfano ma questo fatto 40 anni fa qualche 5 anni fa 6 anni fa mio fratello mi dice che questo ragazzo ormai un uomo era a Milano e aveva fatto fortuna perché aveva lavorato insomma ecco però per una persona che lei diciamo non uccide ne ammazzate molte altre e tra poco ci entreremo io le faccio questa domanda perché lei era molto giovane all'inizio perché ha scelto di entrare dentro la mafia per diventare qualcuno ma no perché diventare mafioso quando uno lo capisce io ho avuto modo di capirlo perché lavoravo in via Montesanto che c'erano diversi diciamo spazi e ce n'era uno riservato che queste persone si parlavano fra di loro quindi io ragazzo insomma mi ci arruffianavo ci puliva macchina ci puliziavo le candele qualche cosa e mi regalavano qualche cento lire all'ora ogni tanto ne moriva qualcuno ma io mi prendevo di spiegare proprio dicevo queste persone così brave insomma qualcuno moriva sempre ogni tanto però si vedeva che erano personaggi diversi delle persone normali quindi per uno un ragazzo potevano come lei potevano essere dei punti di riferimento è questo cioè voleva dire legarsi a un mondo e passare da essere nessuno a un uomo di rispetto questo voleva dire a un uomo importante ecco a un uomo importante a un uomo importante perché Totorina lei come lo ha conosciuto? io a Salvatore Totorina l'ho conosciuto nel 1965 64 non so mai che già avevo fatto tre anni di galera ai giovani adulti era uscito entro dopo due o tre mesi ancora giovane adulto per una rapina per una tentata rapina e siccome ero un po' ribelle dalla sezione dei giovani adulti non mi vogliono e mi portano in quelli diciamo grande e allora mi portano nella cella di questo Salvatore Rina però insieme a Salvatore Rina c'era un certo Rocco Semilia detto Testa di Ferro che che mi conosceva dal ragazzo perché veniva in via Montesanto da Vetrano ecco perché mi fanno entrare e dopo io con Rina trovo un fascino che ma reciproca insomma nasce un rapporto veramente bello sincero ma cosa aveva Rina per dire nasce un rapporto aveva il carisma che non si arrabbiava mai uno e dopo io non capivo ma vedevo che molte persone più anziane di lui rischiavano perché diciamo allora c'era ogni braccio in galera si poteva girare però le guardie ti potevano fare il rapporto e ti davano tre giorni di cella e lì questi tre giorni te li conservavano quando tu dovevi andare a colloquio quindi non era tanto per stare tre giorni alle celle ma perché ti facevano perdere il colloquio con le famiglie tante persone io notavo venivano ciao Totuccio ciao Totuccio ma più grande di lui e lui sempre tranquillo pacifico dopo essendo 24 ore su 24 ore si conoscono veramente i caratteri perché c'è quando uno è arrabbiato quando è allegro quando è nervoso e che caratteri aveva ma io il totorino degli anni 60 io ho trovato un carattere dolce docile saggio a me diciamo io ero un po' birichino con lui perché diciamo quando si giocava a dama lui perdeva con tutti vinceva soltanto con me io vincevo con tutti e perdevo soltanto con lui quindi avevo a tutti gli altri cinque ma lei lo faceva apposta lo faceva apposta perché non ero capace diciamo ma non soltanto a dama anche a carta anche a giramondo perché là in galera avrebbe mai immaginato che totorina l'uomo della cella con cui lei è stato in cella sarebbe diventato poi il feroce totorina il capo dei capi l'uomo delle stragi quel totorina lei se lo immaginava così feroce così feroce no però che era un uomo deciso e che voleva arrivare a un punto insomma che voleva cicci perché per il comando e lui non subiva l'umilazione lui ha subito purtroppo dell'umilazione da Luciano Ligio negli anni 74 e lui si vendicò attraverso che fece arrestare a Ligio e dopo Rina non è che secondo me la sua la sua che è diventato come una belva era perché era in mezzo alle belve cioè lei dice nel momento in cui lui diventa il capo si trasforma la mafia cioè dovevi vincere dovevi distruggere gli altri per essere dominante devi essere feroce più degli altri questo mi sta dicendo ma perché non era solo lui feroce erano chi aveva accanto feroce e lui allora preoccupandosi di quelli che aveva accanto feroce diventava sempre più feroce perché vedeva lui io sono stato l'unico che quando mi sono sposato lui mi ha fatto regalare 50 mila lire di tutti i mafiosi e io tutti i capi ogni famiglia portava 500 un milione insomma perché io ero uscito della galera mi sono dovuto sposare perché non ero sposato io ma avevo un figlio e quindi la prima cosa mi dovevo regalorizzare mi avevano combinato a Napoli perché avevano paura che potessi ricadere in galera e subito Salvatore Rina insomma mi ha fatto da padre insomma ecco però io le voglio far vedere invece il Totorina che noi conosciamo in Abbattiamoli abbiamo raccolto le conversazioni di Totorina con Lorusso il suo compagno di socializzazione in carcere a volte si lasciavano anche i boss a colloquiare con altre persone e poi si ascoltavano e si registravano le loro parole ascolti come racconta la strage di Capaci i primi quelle della macchina erano cinque sono scomparse tutto pezzo pezzo li hanno presi non ne hanno trovato niente nulla che cosa è successo si sono disintegrati i corpi sono spembrati pezzo pezzo minchia potenza potenza bomba potenza bombardamento quando sarà che i ragazzi leggeranno la situazione che diranno perché a scuola la studiano lui sa cosa diranno ma chi era questo ingegnere potentoso chi era non la possono digerire non la possono digerire non la possono digerire è un esempio un esempio dato proprio dato sono isolato da quando sono in galera 21 anni isolato ma questo sempre isolato è stato noi altri abbiamo fatto il nostro dovere di vedere di poterlo fare recuperare ma questo non si può recuperare è irrecuperabile vi faccio vedere io chi sono chi sono le persone sulla terra se io restavo fuori io continuavo a fare un macello continuavo al massimo livello ormai c'era l'ingranaggio questo sistema e basta mi inchieravano tutti tutti mafiosi i capimafia totorina non li faceva passare avrei continuato a fare un macello ma dice anche quello che in fondo diceva lei cioè i capimafia totorina non li faceva passare ma guardi totorina piano 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 è arrivato a questo lui aveva questa voglia di comandare io mi ricordo la prima volta che lui si è messo contro i giudici è stata quando a Ninetta negli anni 70 ci hanno dato la il confine alla moglie alla moglie alla moglie ma allora erano fidanzati lui si stava litigando con Gatano Badalamente perché lui voleva una reazione subito della mafia contro questi magistrati perché dice ma il confine alle donne a quale donne si dà il confine? allora si davano alle prostitute perché diciamo per motivo che Dio non falle fare quelle che facevano ci dicevano non andare in quella città quindi voleva che si colpissero subito i magistrati? sì ma non tutti i magistrati per esempio io mi ricordo nel 69 io brucio una macchina con la macchina di Terranova però accanto alla macchina di Terranova c'era una macchina Terranova il giudice? il giudice Terranova sì che dopo viene ucciso poi viene ammazzato con un'altra strage lei perché aveva avuto l'ordine di bruciarla? di Salvatore Rira sì perché un avviso al giudice Terranova sì e io ce la brucio però accanto alla macchina di Terranova c'erano altre macchine allora non è che c'erano i postelli belli così e si brucia pure la macchina di un costruttore nel giornale non esce che si era bruciata la macchina di Terranova ma del costruttore però se lei guarda il giornale delle e quindi questo cosa vuol dire? cioè che lui non è che subito voleva uccidere dopo si era scatenata con alcuni giudici un conflitto cioè il conflitto non è questo per giustificare no 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 lei capisce che forse i giudici no? ma io non voglio dare soltanto la colpa a Salvatore Rina quando tutti dicono che è Salvatore Rina era un esecutore di tante discorse io mi ricordo quando andavo per esempio da qualche politico perché c'era qualche professore che doveva fare carriera che doveva prendere un posto importante si andava da qualche politico e si andava a parlare ma il politico... scusi ci spieghi un attimo lei dice che se qualche persona tipo un professore va a fare un po' di carriera si veniva da voi? da lei? da Totorina? da me per l'ospedale fare i primari nell'ospedale quindi si passava da voi? logico c'erano sempre scusi perché Falcone si inventa il voto di scambio e fa l'associazione esterna che ora i politici la vogliono togliere e poi questo era perché aveva capito che voi eravate l'elemento tra mafia e politica dai l'associazione esterna era quello che faceva uno che non era mafioso con i mafiosi quindi è questo chi poteva essere in combattimento i mafiosi però lei sa bene che Totorina inizia un percorso molto pesante crea anche le Camere della Morte se le vuole raccontare le Camere della Morte che cos'erano? guardi le Camere della Morte Totorina inventa il tradimento il tradimento che uno andava a mangiare dopo che mangiavano li strangolava quelli che erano a volte ce n'erano più feroce di Salvatore Zina per esempio questo soprannome la Camere della Morte che hanno dato allo Sperone non è che c'era Salvatore Zina c'erano altri mafiosi che prendevano le persone li torturavano per farle parlare dove le mettevano? su una sedia tipo quella del dentista? ma anche se non c'era la sedia del dentista c'era una sedia normale era uguale l'hanno trovato a poltrona propria in questa Camere della Morte soprannomenata e come facevano poi dopo lo strangolamento a farle scomparire? dopo che li mettevano nell'acido li squagliavano e li buttavano nel gabinetto che diventavano acqua lei l'ha visto con i suoi occhi? ci ha partecipato con i suoi occhi? quanti ne ha fatti di omicidi? io di questi ne ho rinazionato a Dio che ne ho fatto poco perché ero io in galera però io ho visto anche tutti i procedimenti perché prima la mafia quando strangolava uno lo sotterrava le menteva della calce quella viva si ci buttava l'acqua perché la calce corrode e quindi anche se lo trovavano non potevano stabilire il periodo dopo c'erano per esempio si sperimentò il discorso dei maiali e tanti avevano dei maiali che li lasciavano a dieta quando si strangolava qualcuno ce lo davano i maiali dopo inventavano pure che li bruciavano perché l'uomo è grasso insomma brucia però rimangono due pezzettine il reno, il polmone e sempre c'era un maialino insomma pronto che si mangiava queste cose però lei me li racconta come se fosse naturale cioè come se la mafia decidesse di eliminare in modo naturale questa è storia questa è storia storia purtroppo che l'ha fatto la mafia che faceva la mafia fra di loro va bene che c'era dopo la cosa esagerò perché negli anni 80 c'è questa esagerazione la fermo le voglio far sentire un altro passaggio di Totorina sempre si confida con lo russo in carcere ha un desiderio Totorina ascolti se si sposano i miei figli e può nascere qualche altro Totò eh chi lo sa io ci spero può nascere qualche nepote ci spero potrebbe succedere che qualche cosa che prendesse l'impronta del nonno con questa personalità mia facebbe succedere che un altro ecco lui dice io ho un sogno che un mio nipote continui mio figlio un mio nipote continuo a essere quello che sono io ma secondo me non ci sarà nessuno che può continuare quello che faceva Salvatore Rina perché non ci sarà il contorno che aveva Rina Rina aveva un contorno di traditori cioè tutti quelli che erano vicini a Rina erano tutti traditori cosa intende per traditore? traditori che diciamo c'erano le famiglie esatto e il capo si fidava dei suoi uomini c'erano quelli che per ambire perché volevano prendere il posto dei capi e avevano questi rapporti solo io mi sono rifiutato di tradirlo? di tradire a Riccobono ci ho detto a Rina dimmi qualsiasi cosa pure di buttarmi a mare io mi ci butto però non mi dire che io non ci debbo dire a Riccobono dove sono stato che era il suo boss della sua famiglia totorina totorina voleva che lei lo tradisse però lei ha detto no non lo faccia ma gliel'ha detto a totorina in faccia e lui ha riconosciuto questo aspetto? oggi io ci ho detto a Rina queste parole io con Rina sono latitante assieme con le mogli i bambini dimmi qualsiasi cosa vatti a buttare a mare io mi ci butto ma non mi dire però non è che mi aveva detto di tradirlo nel modo che si doveva uccidere lui non dice niente però io capivo che tutte le cose si inizia così infatti quello era il periodo che dopo tutti quelli che eravamo a disposizione di Ligio di Rina di Provenzano nel giro di 5-6 anni sono diventati tutti capi va bene perché hanno tradito i loro capi io invece non ho tradito a Riccobono lui forse ha capito che io ero sincero non lo so perché se lui che mi voleva far uccidere a me mi aveva fatto uccidere cento volte però lei arrivava con la sua Lamborghini perché poi le aveva spassavate anche bene macchine importanti la posteggiava a Fiumicino prendeva l'aereo e poi andava a ammazzare qualcuno è così? no andare a ammazzare probabilmente no andavo a Palermo perché avevo degli appuntamenti con altri mafiosi sempre per traffichi di droga insomma è subito dopo tre quattro ore c'era c'era un certo Gasperini un romano impiegato a Laci che era pratico quindi che mi diceva deve stare tre ore quattro ore a Palermo e prendere l'aereo io ritornavo e andavo a Sulmona a Tenamo che ero a semilibertà anche se era sotto controllo diciamo lo Stato era semilibertà lei però prendeva la sua macchina sì ma ero a lavorare perché io avevo il posto di lavoro sì vabbè ma era sempre è una copertura un giorno magari dicevo mi devo fare una camminata non è che ero controllato per dire va ma in quel periodo non uccideva lei? se succedeva potevo uccidere pure se mi trovavo a Palermo e c'era qualche strangolamento si faceva infatti il primo se lo ricorda il primo strangolamento che ha fatto se lo ricorda io mi relogio sono 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 purtroppo azioni che non si dimenticano sono cose che e come andò? mi avevano detto di aspettare uno in Vioreto di di farmi dare un passaggio finta che avevo scappato dalla polizia che sapevano che questo passava con la macchina infatti questo passava con la macchina io ci ho fatto segnale lui mi ha riconosciuto ci ho detto accompagnami da da una casa che erano dei fratelli mafia insomma tutti mafiosi che gli avete fatto? si è preso si è strangolato e allora c'era ancora che si sotterravano si si mentre ecco ma rivedere oggi ma oggi quegli atti riviva gli scusi vorrei capire nella sua mente allora uno ti può dare un ordine lei lo deve eseguire quindi ammazzare una persona da uomo a uomo dentro come si sentiva era un ordine perché si partiva con l'intenzione che quello aveva sbagliato si era comportato male e allora c'era la punizione però io le posso raccontare diversi episodi ma perché era l'ordine che cioè lei doveva dire io devo rispettare l'ordine cioè ammazzare per l'era l'ordine l'ordine ma uno non si poteva rifiutare uno lo poteva dire per come è successo per esempio io con un cetto Michalizzi Michele che è ancora vivo e abita a Mondello ci siamo rifiutati di strangolare due persone i fratelli pedoni perché c'erano altre persone e ci abbiamo detto evitiamo di andarci noi e di andare a sparare pure a Nino Badalamenti un personaggio famoso io e questo Michele Michalizzi abbiamo pregato a Riccobono ci ho detto evitiamo perché noi sentivamo l'amicizia non erano persone cioè c'erano persone che uccidevano soltanto per il gusto di uccidere per riattipo che era una medaglia uguale quando lei sente parlare è collaboratore per esempio ora e parlano di guerra di mafia si no no e parlano di guerra di mafia ma la guerra di mafia è un'invenzione dei giornalisti dei giudici dei magistrati ma la guerra di mafia allora la mattanza lei dice era motivata da altro ma quelle erano tra di voi tradimenti erano tutti tradimenti erano tradimenti per arrivare al potere per arrivare ma lei sente parlare c'era morto al giorno a Palermo a un certo punto logico non è che non si possa parlare di guerra ma quale guerra ma scusi ma uno che va a mangiare da una persona è perché è in guerra ma uno che va a parlare con un amico è in guerra venivano così e intanto lei sente parlare e venivano eliminati però venivano eliminati però con il gusto che c'era che avevano un'idea di arrivare dopo ecco perché sono perché sono nati questi pentiti i pentiti che sono nati per questo motivo perché io ora quando a volte per quale motivo scusi io sono nato lei è un pentito uno dei pochissimi iniziali io sono nato io mi sono pentito perché diciamo vedevo ai giudici che si comportavano diversi degli uomini d'onore e quando io dopo a un certo punto vedo che che si uccidono donne bambine donne incinti scusi qua è un macchiello allora io cerco di di voltare pagina e parlare con queste persone senta quando uno fa latitante per tanti anni come lei anni e anni ha delle coperture da parte degli uomini dello Stato ma allora il mafioso non era guardato delle forze dell'ordine come un delinquente come uno che dava fastidio per le forze dell'ordine il delinquente era il repenatore il glato lo scippatore ma il mafioso era quando io incomincio a collaborare che cosa dico nei paesi chi comandava il marasciallo il prete e il mafioso ognuno aveva il suo compito quindi il mafioso era un personaggio dello Stato cioè quello che non faceva lo Stato perché lo Stato lo faceva la mafia lo faceva la mafia però scusi cercava i posti di lavoro però scusi quindi non eravate tutta questa latitanza era perché non vi cercavano oddio ma io non abitavo in via Meraglio Cagni numero 27 e stavo in via Catalano a 300 metri ma difficilmente che cioè non è diciamo che sul territorio non vi cercavano e per questo per tanti anni avete goduto della latitanza uno dei misteri infatti che accomuna anche la sua latitanza a quella di Totorina perché anche Totorina è stato latitante per anni cambiava villa eccetera ma in Palermo stava nel cuore di Palermo e probabilmente godere di coperture anche la mancata perquisizione del covo di Totorina dopo il suo arresto ne è stato molte letture una di queste particolare è l'allora PM Antonio Ingroia la perquisizione non è stata fatta perché si voleva favorire Rina o gli uomini di Cosa Nostra la perquisizione non è stata fatta perché bisognava preservare quella trattativa e forse era parte di quella trattativa nel senso che qualcuno dentro Cosa Nostra diede per vie indirette l'imbeccata giusta per individuare Rina offrendo Cosa Nostra come capro espiatorio Totorina ma i documenti no esatto i documenti che aveva Rina dovevano passare alle mani di chi sarebbe venuto dopo e passarono nelle mani di Provenzano la nostra ricostruzione anche nel processo trattativa sì oggi sono nelle mani di Matteo Messina oggi sono certamente non può non essere il capo del momento a tenere questi documenti che sono la vera arma del potere e l'arma del ricatto non venne perquisita la villa di Totorina mille polemiche mille storie ma una certezza c'era una cassaforte perché Totorina aveva sempre dei documenti ecco questa qui è la villa oggi sede della stazione Carabinieri della famosa latitanza nel cuore di Palermo di Totorina sulla cattura di Totorina insomma ci sono dette molte cose sulla mancata perquisizione però di questa villa si è aperto un grande mistero lì c'erano i documenti di dentro questa casa ma non è cioè per lei la cassaforte per me è un mistero per lei è aspettante è un mistero però per noi diciamo della mafia non è un mistero perché diciamo io non ho parlato mai del generale Suddani che era il capo dei Rossi era il capo dei Rossi prima era coronnello capitano a Cinisi dove io sono stato latitante con Riccobono prima di me che era stato Ligio lei era il paradiso dei latitanti c'era Suddani però io non ho parlato mai di Suddani perché non ho avuto mai la fortuna di conoscerlo dopo noi togliamo Suddani in quel periodo che lei dice e c'è Mori esatto cioè questo gioco che c'era tra i carabinieri e i pezzi grossi della mafia c'è stato sempre ecco però in questo caso lei capisce che viene arrestato il capo dei capi l'uomo più ricercato del mondo il capo dei capi in questa casa c'è una cassaforte che contiene tanti documenti non c'erano tanti documenti c'erano i misteri della mafia dell'Italia perché là c'erano i misteri come mai l'ADC per un certo periodo è sempre quella che comanda politicamente perché era la mafia che sosteneva l'ADC esatto in quel momento in quella cassaforte sicuramente c'erano dei patti dei cose con tutti i politici della Sicilia perché tutti i maggiori politici siciliani erano tutti non dico mafiose ma erano tutti amici dei mafiosi ma anche i principi noi abbiamo principi mafiosi ecco ma non entrare in quella casa e non andare a perquisirla fa parte della trattativa cioè qualcuno dà rina in cambio del stop alle stragi come si dice e quel qualcuno può essere provenzano lei sicuramente si mentirà a ridere come tante altre persone ma se lei ascolta bene la cronica le croniche di allora c'è stato un appuntato che dopo l'arresto di Rina la sera sono andati i carabinieri a fare la perquisizione nella casa di Rina dopo non se ne parla più dopo questo 20 anni 25 anni l'ha ribadito al tribunale dice io ho saputo che erano partite delle persone per andare a fare la perquisizione e l'ho detto l'hanno preso per patto quindi dice che allora o qualcuno c'è andato esatto esatto e allora Provenzano ha detto un minuto che i patti non sono questi fermatemi fermatemi quindi Provenzano è la mano dietro no? ma Provenzano cioè è inutile che vogliamo cioè io lo conoscevo molto bene Provenzano Provenzano non era Rina aveva un altro carattere Cioè Provenzano è rimasto sempre quel carattere che aveva sempre tipo? ma monaccione diciamo esecutore se doveva uccidere uno lo uccideva non è che che aveva scrupoli però non era diciamo aggressivo subito come Rina Rina era più dopo che diventò sospettoso Rina perché ha capito che i migliori amici erano pronti a uccidere a tradire e lui aveva questa paura ecco ma è pensabile quindi che Provenzano all'epoca c'erano le famose stragi bombe assassini forse per fermare cioè non credo pare che Provenzano non fosse d'accordo con continuare a fare le stragi Provenzano aveva tutto un altro carattere e non era d'accordo a quello che sta proprio facendo Rina a Palermo e in Italia non era d'accordo e logicamente i carabinieri hanno voluto parlare cioè noi abbiamo le dichiarazioni di Ciancimino guardi che sono veritiere non è che non sono veritiere soltanto Ciancimino dopo si allargò si è messo contro tutto il potere e logicamente ha avuto dei rattacati quindi secondo lei o entrarono e non lo dissero esatto oppure hanno aspettato e Provenzano li ha bloccati a dire magari c'era anche la famosa Agenda Rossa si ricorda che lei l'ha visto Paolo Mussolino scrivere anche quello che diceva lei io la conosco non è che non la conosco l'Agenda Rossa ma logicamente sicuramente anche quando lo interrogava lui scriveva delle cose scriveva la appuntava c'è chi dice che fosse là ma si dicono tante cose e il vero è la consistenza di questi dubbi che abbiamo qual è? chi ha ancora messino a denaro va bene è libero lei sa che c'è stata per correttezza lo dobbiamo dire una doppia sentenza sulla famosa storia della trattativa tra Stato e mafia nella prima il dottor Di Matteo ebbe ragione e venne la condanna di alcuni uomini delle istituzioni dello Stato nella sentenza d'appello c'è stata l'assoluzione degli uomini dello Stato però si è riconosciuta vera la trattativa cioè alcuni uomini dello Stato hanno parlato con la mafia hanno trattato con la mafia ma era per obiettivi di indagine dicono lei cosa pensa che era giusta la condanna o giusta la soluzione? guardi io le dico una cosa la trattativa c'è stata sempre diciamo trattativa questo accordo questo connubio ora si è rafforzato è uguale quando un magistrato indaga non lo so un banchiere tutti questi padri dei politici esatto ma lei pensa che un giudice se non ha la certezza del 110% indaga un banchiere o un uomo potente o un uomo potente quindi lei dice la trattativa è sempre stata c'è sempre e continua ma la trattativa c'è sempre stata se c'è continua e se c'è e continua diciamo questo però Nino Di Matteo dice sempre quando io gli ho dissi vabbè ma quello era un periodo delle stragi e forse bisogna trovare un accordo con la mafia per evitare le stragi lui disse non bisogna mai trattare con la mafia perché poi la mafia ti chiede un prezzo molto più alto ha ragione il dottor Di Matteo? al 100% perché diciamo il dottore Di Matteo sa che quando c'era Rina e succedevano le stragi questi trattativi nascono perché nascono? perché nel governo ci sono tre corrente chi si fa addosso la cacca perché c'è paura e cerca la trattativa ci magari piangono perché dice abbiamo perso tutto fortunatamente c'erano alcuni uomini che hanno lottato perché volevano combattere la mafia e hanno combattuto la mafia Nino Di Matteo che io ho detto vent'anni fa è l'erede spirituale di Giovanni Falcone va bene è uno che logicamente percepisce chi ha sbagliato dopo la trattativa nasce perché quelli in roste diciamo c'è una lunga storia per esempio le racconto che io quando ho collaborato la prima cosa che ho fatto lei pensa che io ero solo esatto prima di tutto ho fatto uscire a quelli che erano stati condannati innocentamente a Palermo perché c'erano personaggi condannati per la morte del capitano russo che se lei li vedeva si pendeva a ridere era uno con un braccio uno scemo ed altro demente e aveva aveva vent'anni che erano in galera io prima di parlare di tutte le cose a credo al giudice Vigna insomma ho detto guarda ci sono persone poverine in galera che mi viene di piangere pensando ma come mai sono condannati questi che dopo erano omichidi che avevano fatto blusca bagarella insomma personaggi cioè questi questi trattativi questi è come ora Messina Denaro esatto lei pensa che Messina Denaro se lo vorrebbero arrestare non lo giusterebbero scusi arrivano sempre a due passi da Messina Denaro se lei fa il conteggio di quanto persone hanno arrestato per favoreggiamento a Messina Denaro ma sono qualche duecento a Remono quello sarà tranquillo in qualche in qualche nobling insomma là siamo protetto anche dalla massoneria ma là ma dove è Messina è la mamma della massoneria la zona di Trapani logico là c'è c'è la mamma ma secondo lei è lui che ha le carte e i documenti di Totorini logico e quei documenti sono la salvezza e il potere la salvezza perché è il potere ci saranno politiche sempre ma lei pensa guardi il potere com'è noi a Palermo abbiamo la i Cavaliere del San Soporco che è una specie di massoneria però importantissima sono tutti magistrati tutti e quello che aveva diciamo il presidente era il Conte Cassina di Torino che hanno sequestrato Rina dopo ci sequestrò il figlio per dispetto sa chi era l'uomo di fiducia di questo Conte Cassina era il sottocapo della famiglia di Stefano Montale un certo Giovanni Terese del tuo pacchione quindi lei dice l'intreccio politica l'intreccio che c'è massoneria stato l'uomo di Stato non si riesce a dipanare noi mafiosi eramo i cugini cattivi ma eramo quelli più corretti perché se uno sbagliava succedeva quindi quindi quando Ninetta Bagarella diceva voi vi accorgerete alla fine che i peggiori non siamo noi ma sono altri rispetto ai mafiosi no è logico chi sono? sono gli uomini dello Stato perché la corruzione là nasce nelle persone dello Stato perché non vogliono essere toccati cioè non solo che stanno bene ma vogliono fare tutto quello che vuole le faccio vedere questa fotografia lui è Buscetta l'uomo che l'ha accusata e che lei ha conosciuto bene perché lo conobbe quando i cugini salvo credo la chiamarono a partecipare a quella che lei non chiamare guerra di mafia ma insomma gli scontri eccetera lei l'aveva ospitato anche a casa sua con sua moglie Cristina ma la moglie io logico a casa mia perché il signore ma pensa che Enrico Bono latitante latitante mi è venuto a trovare dentro il carcere latitante Enrico Bono perché il signor Pippo Calosi era offeso che io avevo dato ospitalità a Cristina perché secondo lui la moglie di Buscetta la moglie di Buscetta perché lui secondo lui quello se ne doveva andare perché era uno scandalo per Pippo Calò perché Pippo Calò magari voleva il cassiere della mafia ricordiamolo esatto voleva che Cristina se ne andassi in Brasile lui ritornava con la Cavallaro e Buscetta perché non era la moglie ufficiale esatto quindi era una questione di morale ma scusi come ha fatto da latitante a entrare in carcere? come vede entravano insomma le piene del signore sono infinite diceva anche Rina come i graviano che hanno fatto i figli in carcere per virtù dello Spirito Santo ma ci sono persone che dicono che nascono i figli per virtù dello Spirito Santo va bene a proposito di Buscetta che tipo era? ma quando è Buscetta noi siamo stati nel 75 quasi due anni assieme dopo lui se ne andò con Turatello a Milano Francis Turatello con Francis Turatello e Buscetta era un molto carismatico c'era a parlantina parlava insomma autorevolmente a me per esempio la prima volta che l'ho conosciuto mi offre il caffè ci metto lo zucchero e mi fa cosa sta facendo? ma non ti vergogni? come? lo zucchero vale zucchero? dice prenditi il caffè 10 volte senza zucchero l'undesima volta ti faccio vedere che lo butti e assaglierai veramente il gusto del caffè cioè per dire subito e dopo avevo modo di parlare le faccio vedere però questo scontro storico avviene nell'aula di Re Bibbia siamo nel 1993 tutti volevano il confronto con Buscetta Totorina lo fa fino a un certo punto guardate quando ha rifiutato il confronto cioè ha rifiutato di sottoporsi al confronto ha detto io non voglio essere sottoposto a confronto con Buscetta perché non è della mia statura è uno che ha troppi amanti ma lei che cosa ne sa? non ho detto amanti ho detto anche tante mogli tante mogli tante donne vabbè e che ne sa lei? io posso dire che l'ho letto nel giornale perché tutti si viste in tutto il giornale le portano poi signor Presidente come mio nonno parto di mio nonno che io quando mi riferisco di moralità passo dalla mia famiglia mio nonno è rimasto vedo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie non ha sposato e mia madre è rimasta vedo a 36 anni quindi noi viviamo nel nostro paese di cosrettezza morale lei aveva chiesto il confronto con tutte le persone aveva chiesto ora ho letto queste cose signor giudice non voglio fare più il confronto con questo signore avrei voluto che questo signore mi rintuzzasse per poter trovare gli argomenti per parlare con lui perché lui parla di moralità con me per le donne però io vorrei sapere da voi tutti e da lui stesso con quanto coraggio lui può dire a me di moralità quando è l'artefice della fine dei miei cari questo individuo può parlare di moralità quando ha ucciso tanta gente innocente lui parla di moralità a me dov'è la sua moralità Rina la faccia vedere la faccia conoscere dov'è la tua moralità che effetto le fa vedere Mutolo questo scontro ma lo scontro io io lo compendo di tutte e due e Buscetta ha un'altra visione della vita Buscetta è un uomo che ci piacciono le donne non ha nessuna remora è uno fortunato con le donne perché ripeto ha un carisma lei pensa se lo ricorda è il complesso Renato Carosone certo c'era il batterista Gia Gia Di Giacome c'era la moglie di questo Gia Gia Di Giacomo la Silvia Lopez che è in contrabuscetta e scappano e se ne vanno dopo questa si prende le tracce esatto un uomo a cui piacciono le donne però la moralità qual è il punto perché Rina non accettava questa cosa no no Rina cioè Rina per come tutti i mafiosi cioè ai mafiosi che si poteva dire tutto ma quello che dice Rina è vero per esempio apparentemente apparentemente dopo la natura è natura esatto però apparentemente il mafioso era fedele alla moglie ma la moglie si faceva uccidere per il marito che lo credeva fedele dopo io credo che ora le donne mafiose hanno qualche dubbio da quando è morto bontate inserirlo qualche altro perché uscivano dalle loro amanti quindi quelle che predicavano ecco però fa effetto sentire parlare di morale no sulla questione femminile quando tu dall'altra parte sulle mogli quando tu ammazzi dai ordini di ammazzare la gente non è una cosa che non ha un senso Muscetta però parlava di moralità cioè Rina parlava di moralità infatti dice mia mamma a 36 anni rimane vedova mia moglie insomma è chiaro su questi discorsi è chiaro lui parla di questo non moralità cioè uccidere uccidere certo non parliamo perché non si può non posso giustificare io per esempio quando è morto Rina ho cercato cioè di ricordarmi sempre Rina per quello che mi ha fatto a me perché a me mi ha aiutato e dopo io l'ho tradito diciamo lui ma io non l'ho tradito io l'ho rinnegato perché ho rinnegato tutta cosa nostra adesso le faccio vedere però una persona che dal punto di vista di Morai non si può dire nulla è giudice Falcone con lei si aprirà nascerà un rapporto però prima di parlare di lei e Falcone le faccio ascoltare Samarcanda Michele Santoro si parla proprio dei rapporti della mafia con i politici io ho sentito tutte le interviste quelle che ho fatto anch'io ai pentiti no? e insomma sai che fanno questi pentiti loro raccontano tutto della mafia come organizzate i rapporti quello che hanno fatto chi gli ha detto di fare eccetera eccetera però quando si arriva al tema dei temi cioè al rapporto tra mafia e politici loro dicono niente saccio no? lei con quali pentiti ha parlato? no io ho sentito prima di tutto tutte le interviste fatte insomma quelle di Biaggi quelle fatte dal TG praticamente tutto quello che è stato trasmesso non hanno mai detto i pentiti di Cosa Nostra non hanno mai detto niente saccio hanno detto esattamente il contrario questa legge di Verbali di Buscetta di Marino Mannoia di Contorno di queste cose no ancora bene io parlo sempre del vertice di queste cose non parliamo perché non crediamo che lo Stato sia in condizione di saper gestire queste cose che vi andiamo rivelando ecco io questo volevo sentire è verbalizzato è un punto importante cioè dice i pentiti non è vero che non vogliono parlare dicono che lo Stato del terzo livello non è in grado di gestire questa cosa perché è troppo rischiosa sono parole molto attuali guardi Falcone dovrebbe essere santificato per quello che ha fatto Falcone ma infatti volevano dire volevano dire perché quelli che parlano troppo purtroppo Falcone era odiato principalmente dai suoi dai magistrati principalmente ma anche anche Falcone capiva che lo Stato non era in condizione perché se un pentito si accollava a qualche cosa veniva condannato esatto quindi a un certo punto Falcone capiva compendeva umanamente perché io mi sbilancio con Falcone quando io parlo prima di parlare con Borsellino io parlo con Falcone e io ci ho detto io desidero collaborare in modo diverso di come ha collaborato Buscetta Mannoia Contorno cioè lei vuole fare i nomi anche di uomini dello Stato sì e lui siccome lui era una persona corretta al cento per cento mi dice guarda che io non posso prendere le tue dichiarazioni non le può prendere perché lui ha lavorato a Roma al ministero e le dice però c'è un mio amico Paolo Borsellino lei poi parlerà con Paolo però oggi il terzo livello è quello che comanda è quello che comanda è il terzo livello ha comandato sempre ma lei che effetto fa a vedere che Totò Cuffaro condannato Marcello Dell'Utri sono tornati nelle elezioni che ci sono state a giugno a Palermo con delle loro liste che effetto le fa ma quello che dice Totò Cuffaro onestamente non è che mi interessa niente o Dell'Utri io quando ho parlato che ero io ho collaborato esatto ero io solo io ero nella dia e ascoltavamo noi tutte le interpretazioni che c'erano tra i mafiosi e questi di Forza Italia noi sapevamo tutto ma com'è questa storia che dovevate sequestrare Berlusconi a Milano allora dopo il sequestro di Emilio Barone e del direttore dell'affitta era venuto il tempo di Berlusconi avevamo affittato un magazzino finta che si dovevano mettere dei magliari che avevano ventevano delle scappare delle cose sotto c'era la cantina perché il sequestrato a Milano quasi tutti i magazzini che ci sono a terreno di dietro hanno tutti la cantina e quindi eravamo una quindicina di persone tutte palermitani tutte palermitani e tutte mafiosi e l'ordine chi le aveva dato? questi ordini ce li davano sempre il gruppo di Bontà di Stefano insieme a Gaetano Badalamento perché lì c'era Francesco Rattello che comandava ma c'erano diversi gruppi c'erano i calabresi i sardi i siciliani però allora quell'ordine arriva lì e voi dovete agire l'ordine dei palermitani poi perché non avete agito? è perché viene Badalamento e dice ve ne potete andare tutti a Palermo che non si sequestra più e che cosa è successo? era successo che avevano capito forse insomma Dell'Utri allora era quando erano in società con Dell'Utri avevano capito che c'era questo pericolo di sequestrare a Berlusconi e Berlusconi diciamo ha cercato di far intervenire a Dell'Utri facendolo parlare con Stefano Montade queste cose si sanno alcuni mesi dopo perché Bontade con altri mafiosi entrano in società danno dei soldi diciamo a Berlusconi nella costruzione di Melano 2 e quindi e Berlusconi diventa amico dei mafiosi e per quello che garante di tutto e mancano logico ma mancano amico suo mancano era logico ma quando ci chiamano sai il salere il salere dice io sono sono là per far capire agli altri che logicamente Berlusconi non si deve toccare quindi non faceva lo salere no lui era diciamo come un personaggio di fiducia come una garanzia un marchio di propaganda cioè lì ci siamo noi palermitani non si tocca ma specialmente per Frenze Duratello perché la storia di Frenze Duratello cioè Frenze Duratello è figlio naturale di Frenze Duratello di Frenze Duratello sapeva diceva Frenze Duratello diceva stia attento se tu tocchi un palermitano pensa che ce n'hai dietro 3.000 non uno esatto quindi però Frenze Duratello era molto furbo prendeva qualche industriale se lo portava nelle cantine la sera ci andava e ci diceva senti tu devi stare ora due mesi qua ci devi portare 4 miliardi 5 miliardi se te ne faccio andare domani che me lo porto un miliardo e quello lo sentivo così perché pensava di fare un appare stai attento perché ti ripendiamo e te ne facciamo uscire di più quindi da quel momento Berlusconi commangano al suo salvacondotto era salvacondotto infatti dopo ci sono delle cose che altri collaboratori che parlano in cui i palermitani portano soldi a Berlusconi per fare delle società voi eravate amici no? noi eravamo amici quando io chiedevano ma tu sei un stalliero ma quale stalliero e mi diceva qualche parolaccia delle scatole ma le raccontava come viveva lì? lui aveva là la villa con la moglie con la figlia Dell'Utri ci ha messo una specie di non lo so se era una lavanderia insomma una cosa per riciclare soldi perché loro sa insomma chi ha soldi prendono sempre soldi quindi non però Mangano non era che era saldiere la era la persona di fiducia che rappresentava i palermitani muto lo dice io ovviamente mi hanno detto che Mangano era stato messo lì dai palermitani no? come dire allora però qui è doveroso precisare che la presenza di Mangano ad Arcore è stata accertata Mangano era un mafioso acclarato è stato condannato per mafia è morto in carcere Dell'Utri è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa ma Berlusconi non è mai stato né indagato né condannato per aver ospitato Mangano che a detta di Berlusconi era uno stalliere cioè colui che badava alla cosiddetta stalla ai cavalli che in verità poi meglio Berlusconi disse che Mangano gli era stato mandato da Dell'Utri per proteggere Pier Silvio perché c'era stato un tentativo di rapimento e quindi Mangano gli aveva mandato Dell'Utri da Palermo per come dire quietare quietare le acque sta di fatto ripeto che Berlusconi non andò a testimoniare al processo Dell'Utri neppure su questa faccenda tant'è che Miranda Ratti in Dell'Utri cioè moglie di Marcello Dell'Utri insomma si tolse un sassolino dalla scarpa e disse ah sì non viene ce ne ricorderemo il senso era questo come per dire ah non viene a testimoniare come dire a salvare Marcello sa di fatto che Berlusconi a salvare Marcello non ci è andato però poi dopo tra i due non è che si sia rotto nulla la storia continua siamo al 1992 anno in cui lei decide di collaborare con la giustizia le faccio rivedere la strada di Capaci 23 maggio il fatto che è verificato un po' prima dell'unico di Capaci c'è tutto il terreno smentrato l'autore è stato centinaia centinaia un po' prima che c'è un sacco di ambulanti c'è un sacco di saliti sotto posto c'è un sacco di saliti c'è un sacco di saliti la mincola un sacco di saliti un sacco di saliti un sacco di saliti e un sacco di saliti che ci sono il ferido mi stanno portando linea in questo momento l'amico il polizze mi sembrava abbastanza grande l'idea non sono di un rigido buon' sotto una Bambino il prezente ferido abbastanza gravi alla gamba destra l'adio l'amico a ragazzare che la persona mi stai dire Che effetto le fa stare qua, sapendo che 30 anni fa saltava in aria la persona con cui lei ha deciso di collaborare? Il magistrato ha fatto un po' forse che è stato fatto un po' ancora... Perché se non c'era Falcone, lei non avrebbe mai collaborato. Non mi veniva questa idea, sì, lo devo dire. Che effetto le fa? Ma effetto, a volte io ora credo a qualche cosa che c'è soprannaturale a noi in cui tutto è un destino della vita. Logicamente io, quel momento, può darsi che quel momento è stato, diciamo, il sacrificio di questo uomo ha servito per resbigliare il mondo. La morte di Falcone non è che ha inciso soltanto Palermo. Io quando sono stato in America, veramente, quando parlavano di Falcone, avevano gli agri magliocchi americani, questo rimpianto di questo uomo che dopo sono diventati due uomini che hanno perso la vita per combattere il male, portasse che è stato un bene necessario. Se non succedeva questo, il mondo non sarebbe risvegliato e sarebbe successo ancora di più di quello che succede. Nel momento in cui viene ammazzato Falcone, io credo che dentro di lei qualcosa sia successo, qualche dubbio, forse ce l'ha avuto, di continuare a collaborare. No, no, il dubbio di collaborare, no, perché io aspettavo la signora, io ero addolorato perché, diciamo, Falcone ormai mi era simpatico, perché Falcone, diciamo, era un uomo d'onore, nel senso, perseguitava chi era mafioso, ma non perseguitava, diciamo, il fratello, il figlio, il nipote, lui perseguitava il mafioso, perseguitava, cioè, chi faceva traffici, non guardava se era Cuccia, se era Sindonia. Cioè, metteva tutti sullo stesso piano. Lui fu quello che, quando entravano i giudici nelle banche, il direttore delle banche prendevano ai magistrati per l'orecchio e li buttavano fuori. Con Falcone questo non è successo. Ma è per quello che l'hanno ammazzato, perché era andato a cercare i soldi. No, principalmente, ma principalmente, se era soltanto per la mafia, avrebbe campato duecento anni, ma non solo Falcone, Falcone, Borsellino e altri giudici. Quindi non solo a voi dava fastidio Falcone, ma anche al sistema, alla politica, ai servizi deviati? Ma dava più fastidio al sistema, al servizio e non al mafioso, perché il mafioso era abituato a fare un certo lavoro, trovava sempre il modo come scoggettare, quindi non è che la mafia, diciamo, era nata nell'80. Però avevano già cercato di ucciderlo alla D'Aura, per esempio, anche se lì si è fatta molta ironia, qualcuno diceva che si era creato lui addirittura l'attentato. Ma la cosa più importante è non tanto l'attentato che noi siamo certi che lo volevano uccidere da molto prima, io lo so, da molto prima, ma perché era con l'Adel Ponte. L'Adel Ponte chi era? Che dopo l'Adel Ponte, lo dico io, mentre indagavo, c'erano una montagna di soldi. Magistrato svizzero, che era venuto in quei giorni a Palermo, era lì all'Addaura con lui e stavano lavorando proprio sui soldi svizzeri. E i soldi che avevano gli industriali, i politici, i mafiosi in svizzera, perché allora ancora non c'erano i paradisi fiscali, c'era la svizzera che aveva. Entrare nel segreto svizzero era complicato, quindi l'Adel Ponte era fondamentale in questo rapporto, magari colpivano tutti e due in un solo attentato. E' Giovanni Brusca. Giovanni Brusca, logicamente, ha premuto quel pulsante e lui pensa, lui pensa, ha centrato. Però altre voci che ho sentito da molto tempo, quando ero alla DIA, che il giorno prima avevano visto nell'autostrada delle macchine con delle persone con le tute bianche. Tipo che controllavano le strade. Tipo dell'ANES? Tipo dell'ANES, sì. Dopo hanno fatto indagliene, però non c'era nessuna traccia di queste persone effettivamente dell'ANES che controllavano. Quindi erano chissà chi. La cosa più probabile era questo, che altri personaggi più esperti, diciamo, contemporaneamente sapevano ormai quello che c'era, quello che stavano preparando. E quindi al momento in cui hanno azionato si vede qualche segnalazione. Ma è partita. Anche perché da qui, lo vedi, è molto lontano, no? Sì, lontano. Quindi nel momento in cui muovi quella leva che fa scattare tutto, devi essere molto preciso, perché le macchine andavano oltre i 100 km all'ora. Per cui devi essere veramente esperto, devi avere dei punti di riferimento. Quindi l'ipotesi è che ci fosse qualcun altro più vicino. Hanno trovato delle tracce, delle cose che portano ad altri personaggi. Per esempio hanno trovato un bigliettino che apparteneva a un personaggio dei servizi segreti. Qualche persona che diceva, Giovanni Brusca ha mancato, lui pensa che è stato lui. Però logicamente è una cosa così di precisione, perché effettivamente è stata una cosa di precisione. È una precisione militare. Militare. E quel sistema che avevano preparato i mafiosi non è che era tanto valido. Piazzare 400 kg di tritolo su un cunicolo di un'autostrada per tutto quel tempo di certo non passa inosservato. C'è tutto il terreno svendato. Che ci fossero delle coperture. Infatti poi fu rilevata la presenza di furgoni, furgoni bianchi, poi l'anas e poi non era l'anas. Di certo posso raccontare come esperienza personale che quando andai a intervistare Arafat dopo pochi anni, lui commentando la strage di Capaci mi disse, mi fece un disegnino proprio su un foglio di carta, e disse che è un classico meccanismo, una strage a ponte, cosiddetta a ponte, di matrice, secondo lui libanese. Questo, insomma, adesso non so se questo fosse vero o meno, però di fatto lascia credere, lascia pensare che di certo Cosa Nostra non fosse all'altezza organizzativa di un'operazione del genere. Anche se è pur vero che Cosa Nostra usò la tecnica del telecomando con l'esplosione a distanza per la prima volta per far saltare in aria Chinnici. Fu la prima volta della bomba col telecomando. E a proposito del telecomando, Mutolo parla di un errore di Brusca, dice ma Brusca si è sbagliato. In verità poi abbiamo appreso dal racconto di Costanza, l'autista di Falcone, che quel minuto che non è andato secondo i piani di ritardo, in realtà era dovuto al fatto che Costanza, che una volta, che era seduto dietro perché Falcone aveva voluto guidare, perché a lui piaceva guidare la macchina, cosa che non poteva mai fare. Francesca Morbillo, il giudice Francesca Morbillo, la sua moglie era seduta a fianco, Costanza era seduto dietro. A un certo punto gli dice però, giudice Falcone, arrivate a Palermo a casa, io la lascio, ma domani devo venire a riprendere la chiave. Lui, sovra pensiero, una cosa inspiegabile, fa per togliere la chiave dal cruscotto. Ovviamente non la sfila, altrimenti la macchina si sarebbe bloccata, ma probabilmente questo sfilare leggermente la chiave provoca un rallentamento del motore. In quell'attimo, Brusca, che aveva invece avuto un altro ordine, ad un minuto preciso, lì c'è un errore, tant'è che lui si salva Costanza, perché la macchina esplode prima. Questo è il racconto che poi trova riscontro nei racconti a seguire. Poi c'è la storia del bigliettino di cui parla Mutolo. Quel bigliettino che viene ritrovato lì, sul terreno, Capaci, è un bigliettino dove venne ritrovato appuntato il numero di cellulare di Narracci, che era il numero due del SIS, cioè il numero due di Contrada. E noi sappiamo, grazie alle dichiarazioni di Mutolo, è stato condannato in via definitiva. Quindi, che ogni volta, in ogni strage, ci sia la presenza di qualcosa di anomalo, di una presenza estranea ai mafiosi, oppure che non sia riuscita a identificare, questa è quasi una certezza. Ciò che ci resta da sperare, io dico, una speranza per questo paese, è che non fossero vere le parole, a questo punto, il testamento lasciato da Agnese Borsellino, che diceva questo è un paese di ricattati e di ricattatori, che non avrà mai pace se non avrà verità. Il primo luglio, un mese dopo la strage di Capaci, Paolo Borsellino la interroga. Dopo che fa una guerra a Palermo con Gian Manco, perché era impedito di parlare con me, e io mi rifutavo di parlare con lui. Perché il procuratore Gian Manco voleva decidere lui, con quale giudice lei poteva parlare. Invece lei diceva, no, io rispetto Falcone, rimango con Paolo Borsellino. Esatto, oppure non collaboro. Ecco, lei, quando Paolo Borsellino viene a parlarle, siamo a luglio, era perché voleva capire che cosa? Sugli appalti di Palermo? Lei tenga presente che io conoscevo a Borsellino nel 1976, e mi aveva depennato, depennato insomma, mi aveva scangellato, di qualche dieci mandate di cattura, che aveva in tutta la Sicilia, perché capì che insomma che io ero, allora avevo omicidi di personaggi dello Stato, eccetera, eccetera. Quindi io conoscevo a Borsellino. Con Borsellino abbiamo, io ci ho detto subito i fatti quali ero, noi dobbiamo scrivere per ora soltanto cose della mafia, le cose essa, te le dico a parte, te le dico a parte, però prima dobbiamo arrestare i mafiosi, perché i mafiosi hanno una potenza, una potenza che ci fanno saltare a tutti in aria. I mafiosi erano quasi tutti libri, quando io insomma... Ha iniziato a collaborare. Però aveva sempre la sua agenda rossa con lei quel giorno? Sempre l'aveva l'agenda rossa. Sempre. Io l'ho visto... Però a un certo punto, quell'interrogatorio, si sospende, perché arriva una telefonata. Arriva una telefonata di Mancino. Del ministro dell'interno. Del ministro di Mancino. Lui ritorna dopo qualche ora e mezzo, e il poverino era molto arrabbiato, molto incazzato, tanto che a un certo punto ha due sigarette, un'emocca, un'accento, e ci ha fatto un sogno, e dice che cosa è successo? Dice ti porto i saluti di contrada. Io già, sia a Falcone, sia i primi parole che abbiamo avuto, ci ho detto qua, siamo completamente circondati da personaggi che ci fanno saltare in aria. Lei, scusi, sta alludendo al fatto che è uno dei punti molto discussi, controversi, che al ministero dell'interno, in una stanza, Borsellino incontrò, trovò in questa stanza anche contrada. Sì, e contrada ci dice, dice a Mutolo, che se occorre qualche cosa io sono a disposizione. Lei come prese questo messaggio? L'ho preso come un avvertimento, io l'ho preso. E Borsellino come l'ho preso? Si stupì di trovare contrada in quella stanza? Borsellino era arrabbiato, era nervoso, era, non lo so come era. Perché nessuno doveva sapere che lei parlava con Borsellino. Logico, principalmente era questo, principalmente era questo, cioè si capì che il nostro incontro era... Non era segreto. Non era segreto. Non era segreto. Dovevo essere blindato, addirittura avevo tante cose, perché ci fu una strategia... Ma è vero, mi scusi, è vero che lei, Borsellino, ha capito che c'era una cosa tipo Tangentopoli anche a Palermo, cioè in incrocio... No, Dico, c'era Tangentopoli... Ma scusi, ma quando succede che ci vanno all'attentato a Falcone, ma insieme a Falcone chi c'è? Non c'è la Del Ponte, scusi. La Del Ponte... E la Del Ponte che cosa era per furti di macchina? Quella era soltanto per Taglienti. Quindi seguire i soldi... Seguire i soldi, logico. Bisognava bloccare, quindi... È per quello che la mafia fa fuori in fretta Paolo Borsellino, perché ha paura che arrivasse in fretta a capire, secondo lei. No, 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 Paolo Borsellino, secondo me, non muore per il discorso di Tangentopoli. Non era pure importante. Ma Borsellino muore perché si mente in mezzo alla dissocazione. cioè voleva impedire la dissociazione che passasse l'idea di dissociarli, di dare gli sconti ai cosiddetti uomini di mafia che non si pentivano, ma semplicemente si dissociavano. Si dissociavano, esatto. Questo, secondo lei, è la sua visione. Vediamo cosa succede via da meglio. Si tratta di un affinitato. C'è un collega, forse, che è rimasto all'interno, ma anche io, è sedito che è qua, ci è venuto a chiedermi il nostro aiuto. Noi eravamo vicini, abbiamo già udito un cremento botto. C'era un macetto. I cinque colleghi sono scesi giù unitamente al magistrato. Il magistrato stava suonando. è quasi un'automobile o qualcosa altro. I colleghi erano tutta terra e stracettati, solo uno. Tra me uno, un ullo, un ullo dell'ubicio scorte che abbiamo trasportato immediatamente all'ospedale. Ci sono i vestiti di vede un po' sforbollire per tutti. La personalità è in casa. La personalità per il momento non si sa perfettamente niente perché è qualcosa di nuovo. Probabilmente sono tutti morti, tutti morti, anche il magistrato. Ma non sappiamo se si tratta del giudice Borsellino o dell'autista di un altro collega. A quanto pare era Borsellino. La mattina successiva venne da lei in carcere il dottor Natoli che lavorava in stretto contatto con Paolo Borsellino, ha lavorato con Falcone. Cosa le disse? Si preoccupavano si preoccupavano che io non collaboravo più e mi ha detto Gaspare collabora ancora con noi. Ce l'ho guardato e ci ho detto ora ho un motivo in più per collaborare. Le raccontò anche come era ridotto Borsellino? Sì. Cosa le disse? Dice che abbiamo trovato un pezzo, insomma, ci mancavano bracci, insomma, un trucco alle prove, insomma, qualche cosa. Quando mi ha detto questo io mi veniva da piangere e ci ho detto non ho voluto sapere più niente. Ci ho detto ora ho un motivo in più per collaborare. Grazie, grazie. La prima volta che sono venuto a incontrarti mi ricordo che mia figlia mi disse ma papà ma tu sei pazzo di fare incontrarti quella persona che con le sue mani ha strangolato tante persone e io gli ho detto ma io sono sicuro che Gaspare è diventato un'altra persona e quindi io non stringo la mano a quel Gaspare di allora, stringo la mano al Gaspare di oggi e io non soltanto gli stringo la mano ma lo abbraccio pure perché oggi Gaspare è un'altra persona. Ma perché è convinto che sia un'altra persona? Perché? Dagli occhi dallo sguardo dalle sue parole abbiamo parlato tanto con Gaspare e io sono convinto che lui diversamente da altri mafiosi che hanno collaborato con la giustizia solo per avere degli sconti di pena lui invece ha fatto un percorso diverso e quindi oggi è sicuramente un'altra persona una persona che ha strangolato delle persone e oggi il tuo quadro quello con i fiori bianchi ce l'ho davanti al letto e guardando quel quadro capisco che lui oggi è un'altra persona. Io in questa stessa via ho abbracciato Massimo Ciancimino e per questo sono stato attaccato da tutte le parti anche dall'interno del mio movimento e sarò attaccato anche perché ho abbracciato Gaspare Mutuo perché è umano che succeda ci sono agenti che dicono ma quello è uno che ha assassinato eccetera eccetera a me non importa se io sento di abbracciare una persona l'abbraccio l'abbraccio lo stesso non mi vado a pensare che poi sì sì io penso che lui si merita un abbraccio e quindi lo abbraccio era inconcepibile cioè che uomini buoni perché lui era un buono esatto era amante della verità amante della giustizia ma era un buono lo sai che cosa chiedeva Paolo quando parlava per la prima volta con un criminale mafioso gli chiedeva gli faceva questa domanda ma tu come giocavi da bambino questa domanda gli faceva non è che gli chiedeva chi hai ammazzato eccetera gli chiedeva ma come giocavi da bambino voleva capire che tipo era che chi era da bambino per capire come poi poteva avere fatto quel percorso che l'aveva portato ad essere un criminale e questo glielo chiedeva perché Paolo da bambino alla cazza ci ha giocato con tanti di quei bambini che poi sono diventati mafiosi quando la mafia decide di colpire Falcone fa una strage perché colpire anche Borsellino e si dice abbiano accelerato tutto questo Borsellino stava facendo una cosa importante lei forse non si ricorda che c'era il ministro Conso che subito dopo la morte di Falcone ha mandato fuori 300 persone esatto quindi già lo Stato si era peso di paura dopo c'erano i ministri siciliani ma poi quel decreto che riguarda il 41 bis l'ergastolo stativo e la legge sui collaborazioni di pentita era un decreto che era stato presentato l'aveva studiato Giovanni Falcone all'ufficio degli affari penali ed era stato presentato in Parlamento il giorno dopo la morte di Giovanni Falcone però c'era già quando fu presentato quel decreto Roberto Scarpinato disse questo è un decreto sporco di sangue perché sono 30 anni che aspettiamo le leggi come queste e c'è voluta la morte di Giovanni Falcone perché venisse presentato in Parlamento però c'era già una maggioranza in Parlamento garantista che avrebbe bocciato quel decreto quindi la domanda ecco perché ecco perché è per quello che faccio la domanda quel decreto è passato poi alla fine perché è morto Paolo e quindi dico perché la mafia sapeva che se attaccava e ammazzava ancora un uomo importante come Borsellino lo Stato era costretto a convertire in legge quel decreto si sono fatti i conti ma si sono fatti i conti pensava che ceneva lo Stato che Rina ha dovuto accelerare quell'assassino perché qualcuno gli aveva imposto e ci sono anche delle e questo è il punto sì certo certo cioè non era funzionale alla mafia uccidere Paolo Borsellino perché fu solo per l'assassino di Paolo che quel decreto venne approvato ed erano guarda cazzo proprio quei punti che Rina presentò nel papello i punti principali erano questi per l'assassino per l'assassino per l'assassino per l'assassino 41 bis e leggi sulle collaborazioni di Bentiti uccidendo Paolo quel decreto venne approvato e quindi non era funzionale alla mafia la domanda la risposta è che non è stata la mafia ecco questo volevo dire questo è la verità il dubbio che venga usata la mafia per eliminare un uomo pericoloso altrimenti non ci sarebbe stato qui in via Ramelio qualcuno che aspettava quell'esplosione prima che ci fosse che sapeva che ci sarebbe stata per avvicinarsi alla macchina di Paolo prendere l'agenda di Paolo e portarla via questa è la dimostrazione la dimostrazione che non è stata la mafia che si sono trovati che si sono trovati subito dopo l'esplosione con Trada a Yala gente in esatto non è che sto venuto in gente in giacca e cravatta c'era gente giacca e cravatta qualcuno prende la valigia che aveva Paolo Bossardino ed era un capitano dei Carabinieri e che non l'avevano e se ne va via ci fu una fonte anonima che telefonò un giornalista di Antimafia 2000 Lorenzo Baldo per dire che c'era in un archivio di Palermo una foto che ritraeva un capitano dei Carabinieri con la borsa di Paolo in mano e da allora si cominciò a parlare di sparizione dell'agenda rossa di quello che era successo da allora i depistaggi famosi organizzati i depistaggi sono durati e sono serviti a quello proprio per far sì che la gente cominciasse a dimenticare che i responsabili morissero e che quindi non fossero più perseguiti perché purtroppo i veri responsabili come la Barbera come lo stesso Tinebra che ha avallato quel depistaggio quello che era chiaramente un fatto depistaggio lo dicevano i mafiosi stessi ma questo qui questo qui è un balordo è un balordo scarantino era tutto Tinebra quello che manovrava era Tinebra certo era Tinebra era quel Tinebra che non aveva ancora a 57 giorni di distanza ha convocato Paolo a Caltanissetta Paolo ha dovuto nella sua ultima udienza con discorso pubblico alla Biblioteca Comunale di Palermo al 25 giugno dire io della strage di Capaci sono un testimone e aspetto di essere chiamato dall'autorità giudiziaria per dire quello che so e quello che ho scoperto su quella strage Paolo non fu mai chiamato a Caltanissetta mai era stato forse convocato per la settimana successiva al giorno in cui fu ucciso e probabilmente una delle cause dell'accelerazione della strage di Via D'Amelio fu proprio per impedirgli di andare a parlare a Caltanissetta di andare a testimoniare a Caltanissetta Quando Ingroia viene a interrogarlo lei ha un po' di resistenza e dice non voglio più parlare anzi dice la prima volta gli dice attento guardati alle spalle da chi si doveva guardare le spalle? Ma perché di che c'è? C'erano ormai c'erano io sapevo che non erano tutte cose che potevano sperimentare i mafiosi c'erano mai io vedevo che capivo che c'era qualche cosa che andava al di là che c'erano i mafiosi e parla di servizi deviati servizi deviati massoneria insomma tutte cose che non potevano essere i mafiosi insomma che potevano avere questo interesse subito a fare un'altra strage che i mafiosi sono e ha fatto qualche nome al dottor Ingroia? non mi ricordo se ho fatto un nome però io dopo parlai anche con Di Matteo insomma e c'era la boccassini Cardella logico io dicevo io non ero fuori io però davo l'indicazione dove dovevano andare dove dovevano andare logico io c'era chi comandava tutto quello che c'era di fare io ero impegnato mattina fino a sera torniamo a oggi sulla scarcerazione sul fine pena di Giovanni Brusca sull'uscita dal carcere ci sono state moltissime polemiche io le voglio fare ascoltare un passaggio però di Giovanni Brusca tratto dal documentario Corleone fatto da Moscole di Bucco senta cosa dice Brusca ho riflettuto e ho deciso di accettare questa di lasciare questa intervista non so dove mi porta cosa succederà spero solo di essere capito ho deciso di lasciare questa intervista una per fare conti con me stesso è giusto che sia arrivato il momento di ritengo che sia arrivato il momento di metterci la faccia anche mi dispiace non poterlo fare per motivi di sicurezza ma è nello spirito e nell'anima di farlo e di fare con me stesso e grazie a questa opportunità di poter chiedere scusa perdono a tutti i famigliari delle vittime a cui ho creato tanto dolore e tanto dispiacere ho cercato di dare il mio contributo il più possibile e dare un minimo di spiegazione ai tanti che cercano verità e giustizia e chiedo scusa principalmente a mio figlio e a mia moglie che per causa mia hanno sofferto e stanno pagando anche indirettamente quelle che sono state le mie scelte di vita prima da mafioso e poi da collaboratore di giustizia perché nel purtroppo nel nostro paese chi collabora con la giustizia viene sempre denigrato viene sempre disprezzato quando invece credo che sia una scelta di vita importantissimo morale giudiziaria ma soprattutto umana perché consente di mettere fine a questo io chiamo cosa nostra una catena di morte una una fabbrica di morte né più né meno l'ho sempre chiamata in quanto mi è capitato nel vero e precesso un'agonia un'agonia continua rita dalla chiesa ha avuto parole molto dure ma guardi della chiesa ricordo che suo padre il generale Carlo Alberto d'Azchiesa venne proprio ucciso dal padre di Giovanni Brusca Bernardo e rita dalla chiesa dice la scarcerazione di Brusca è una vergogna di stato soprattutto pone anche dei punti interrogativi sul fatto che voi in generale voi pentiti non sempre avete detto tutto avete detto in parte sono dei dubbi legittimi anche perché sulla verità della morte del padre ancora non si sa tutto guardi io per merito della chiesa è stata sempre una donna che mi ha fatto umanamente simpatia insomma che l'ho visto da tanto tempo in televisione però non sono stato assolutamente d'accordo di quando ha parlato del discorso di Brusca perché noi quando sentiamo Brusca sentiamo subito a chi pensiamo a Giovanni Falcone e al bambino esatto e logicamente chi ha chi non ama i bambini chi non ha un amore verso i giudici Giovanni Falcone che ha lasciato l'esempio veramente per me si deve santificare perché sbaglia secondo lei l'elita dalla chiesa sbaglia perché lei lei giustifica e terroristi ci dà una giustificazione quando io invece giustifico i mafiosi in un certo senso perché se il governo viceversa che a a Milano a Torino ci sono fabbri che non hanno manodopera vi chiesto nessuno c'è la manodopera e non ci sono le fabbriche e io come esperienza dico guardate che se io avevo un lavoro dignitoso a me che mi ci portava a essere un mafioso ma come me come tanti altri quindi lo Stato perché sbaglia però mi scusi si metta nei panni di una donna che ha perso il padre e sa che insomma voi avete voi dico voi avete ammazzato decine di persone in fondo siete fuori dopo poco tempo certo è un patto voluto anche da Falcone quindi è una legge voluta da Falcone però e perché ora non grida nei giornali di questo incastolo oschantivo perché ci sono persone peggio di brusca almeno brusca noi sappiamo che ha aiutato lo Stato ha collaborato speriamo che si è pentito io spero lei pensa che si è pentito brusca ma io penso una persona che uccide tante persone ha dei rimorsi guardi io io quando penso a volte che dipingo perché ormai dipingo io a volte e mi fa vergogna perché a volte mio figlio mi ha trovato con gli occhi rossi e mi ha detto che hai perché a volte vengono questi ricordi i ricordi non si possono mai dimenticare insomma quindi brusca si avrà fatto tante cose però se non c'era brusca c'era un altro che ammaccava il pulsante se non c'era brusca c'era un altro che avrebbe ucciso il bambino cioè non era una decisione che prendeva brusca o che prendeva uno però poi le faceva brusca e le faceva lei cioè c'era l'ordine ma l'assassino lo facevate voi ma noi ma noi davamo una giustificazione guardi io ci ho portato degli detenti lei capisce che non ci può essere una giustificazione per l'omicidio di un bambino di 12 anni perché il padre è un pentito non ci può essere noi chiediamo non ci può non ci deve essere io io credo che già quando una persona è sul punto che collabora dopo qualche cosa di pentimento c'è perché non può nascere prendo atto di quello che dice però sono convinto che anche Rita dalla Chiesa è contraria all'ergastolo stativo senta cosa dice il dottor Nino Di Matteo quando lo intervistai su Abbattiamo e sulle famose polemiche dell'ergastolo stativo fu Giovanni Falcone per primo a capire e a illustrare anche pubblicamente la specificità del sistema e a concepire quella normativa penitenziaria con l'ergastolo stativo come base principale che oggi viene smantellata il dato oggettivo è questo e io credo che in questo momento anche il rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale molti mafiosi e stragisti siano molto contenti nessuno vuole concepire la pena come una vendetta dello Stato però lo Stato ha anche delle finalità di prevenzione che devono sempre far considerare la specificità del sistema mafioso anche nell'ottica della tutela di altri principi costituzionali altrettanto importanti e fondamentali quanto quello della rieducazione del condannato cosa succederà adesso secondo lei ma ora dovrebbe gridare Rita della Chiesa no ma grida Rita della Chiesa grida la sicuro dovrebbe gridare di più però io non l'ho sentito gridare bene insomma io l'ho sentito gridare quando c'era giustamente Rina che doveva andare all'ospedale e lei ovviamente non voleva perché dice si può curare giustamente in galera giusto sì sì ma le assicuro che Rita della Chiesa è contrarissima e allora cosa succederà secondo lei sa che si parla di camere dell'amore ma io penso quei magistrati ma io penso che i magistrati faranno di tutto per non nemmai i politici debbono sputtare in alto e è una cosa vergognosa quella che vogliono fare già è una cosa vergognosa che vogliono eliminare questo sistema dei collaboratori perché a me è successa insomma una cosa che tutto pensavo e non ne potessero fare quello che stanno facendo cioè i collaboratori vengono maltrattati completamente io non ho parlato mai male di queste cose perché io ci sono stato 31 anno e ho parlato sempre bene però ora negli ultimi tempi completamente c'è questo sistema di questi cartolo stativo ma io le chiedo sull'ergastolo stativo cosa succederà secondo lei i mafiosi che escono i mafiosi che escono comanderanno e sarà è scritto lei dice è scritto quando i fratelli Graviano usciranno per esempio ma quelli i fratelli Grazia e Graviano sperano che menteranno se non lo menteranno può darsi che abbiamo qualche bella novità noi che sappiamo qualche cosa che ancora c'è in corso quindi ha ragione il dottor Di Matteo in questo caso a 100% il dottor Di Matteo fa questo lavoro io non è che sono però è rimasto isolato io a Sabina Guzzanti 20 anni fa ci ho detto che il dottor Di Matteo passerà i stessi guai che ha passato il dottor Giovanni Falcone 20 anni fa a Sabina Guzzanti lei si può confermare quando abbiamo fatto una cosa su Berlusconi abbiamo parlato anche del dottor Di Di Matteo ci ho detto il dottor Di Matteo è destinato perché per me è perché in tutto c'è qualche cosa che va al di là della vita normale guarda insomma io ho percepito subito che il dottor Di Matteo era un giudice diverso di tutti gli altri ce ne sono come al dottor Di Matteo 5, 6 ci sono non è che Lombardo Grattieri insomma sono giudici che veramente lottano il male però lei dice adesso se passa questo cambiamento sarà deleterio per lo Stato ma logicamente ma se comandano gli avvocati che comandano più dei politici lei ha ammazzato molte persone come vive adesso il suo futuro cioè la paura ogni tanto della morte ce l'ha no io paura non ce l'ho io sono sono pentito di quello che ho fatto e la mia vita io ora scorre nel fare del bene ma cosa posso fare del bene io dipingo esatto dipingo quello che sento ho diversa corrispondenza l'unica cosa che posso fare faccio qualche donazione per i cani per questi incontri tumori quando c'è qualche persona che non ha i soldi per comprare il quadro io ci dico a Maria Santa Maria vedi quanto c'ha taglielo se non ha soldi non mi interessa niente perché io non ha paura che da oggi visto che ma io non ho io non ha avuto mai paura e se io un giorno capirò che a me mi stanno per uccidere e avrò il tempo ci dirò anche grazie io qui non ho l'aiuto da nessuno non è che non ce l'ho non voglio l'aiuto da nessuno non voglio aiuti statali perché lo Stato mi deve dare prima di tutto giustizia e verità quello che ancora a 30 anni non mi ha dato e allora diciamo io non accetto sovvenzione da nessuno e non chiedo sovvenzione da nessuno e quindi facciamo tutto con le nostre forze la casa la gestisce mia nipote Roberta che era la figlia della mia sorella più grande Adele adesso praticamente è diventata una sartoria questi bambini che vivono per la strada la maggior parte di loro proprio perché hanno delle case vivono nei bassi che sono delle case di una sola stanza dove dormono insieme mangiano e dovrebbero studiare non hanno lo spazio per studiare allora qui da noi vengono a trovare l'aiuto per potere dei volontari che li aiutano a studiare imparano un lavoro e fanno tutte queste diciamo borse cose non è che le vendono noi non vendiamo niente le diamo qualcuno fa delle offerte sì sì se qualcuno vuole fare qualche offerta è un aiuto se qualcuno vuole però non voglio vendere niente ho visto che c'è il suo fratello sorridente di un quadro ho voluto c'è un pittore siciliano molto in gamba si chiama Gaetano Porcasi è di Partenico che fa fatto da sempre quadri di c'è qualcuno anche dall'altro lato di impegno sociale spesso fondati appunto sulle stragi e allora siccome le ultime foto che circolano di Paolo c'è con Paolo con la faccia seria molto aggrottata perché avevano ucciso Giovanni Falcone e da allora mio fratello era diventato un'altra persona era cambiato completamente se ti guardava sembrava che guardava non te ma alle tue spalle sarebbe potuto arrivare quella morte che sapeva che sarebbe potuto arrivare e allora gli ho detto mi devi fare un quadro dove invece io qui ci deve essere l'amore di Paolo l'ottimismo di Paolo quel Paolo che nell'ultimo giorno della sua vita scrive una lettera dei ragazzi di un liceo di Padre che in quella lettera dice sono ottimista ed era un uomo che sapeva che a Palermo era arrivato il carico di Tritolo per ucciderlo eppure a quei ragazzi gli dice sono ottimista dice sono ottimista perché vedo che verso la criminalità mafiosa i giovani siciliani e no hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole l'indifferenza che io mantenni fino ai 40 anni si accusa di indifferenza perché lui fino a 40 anni si era occupato solo di giustizia civile e poi dice quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto quindi è un uomo che proprio parla della sua morte come se fosse già avvenuta e manifesta la sua fiducia proprio nei giovani nei giovani che avrebbero continuato quello che lui non ha potuto finire e quindi ho voluto un quadro di Paolo che sorridesse perché qui voglio che questo non deve essere un museo qui la gente deve venire a trovare l'amore di Paolo poc'anzi hai parlato che aveva sentito Paolo che era arrivato il titolo io mi ricordo una quindicina di giorni prima che succedeva la tragedia appunto alla DIA di Gennaro Gratteri di Petrillo insomma quelli che comandavano la DIA erano allarmati perché avevano intercettato qualche cosa che sapevano che era arrivato a Palermo un carico di esplosivo pensavano perché doveva servire sì sì e Paolo lo viene a sapere all'aeroporto dal ministro Scotti per caso perché l'incontro del ministro Scotti non so in quale aeroporto e Scotti gli dice Paolo ma è arrivato ho saputo che è arrivato l'esplosiva a Palermo e Paolo non ne sapeva niente e allora tornando a Palermo vada Giammanco hanno proprio un alterco e Paolo tanto che Paolo sbatte il pugno sul tavolo e si ferisce la mano perché gli avevano come non fece mettere il divieto di sosta in via D'Amelio che doveva essere lui ad assicurare la protezione di Paolo non come organo ma diciamo a fare intervenire gli organi di polizia e civici per mettere il divieto di sosta in una strada dove Paolo andava tre volte alla settimana poi quando l'hanno ucciso hanno detto via D'Amelio non veniva considerato un obiettivo al rischio cioè era una via chiusa una via chiusa dove Paolo andava a trovare la mamma tre volte alla settimana e tra l'altro se va a trovare la mamma Paolo secondo me abbandonava pure le sue difese psicologiche perché lì era la casa di sua madre e lì non c'era il divieto di sosta per cui poterano mettere sta macchina davanti al portone come hanno fatto metterla prima per occupare il posto poi appena avevano intercettato il telefono di mia madre di casa della madre quando Paolo la mattina telefona e dice mamma preparati che alle 5 ti vengo a prendere tolsero quella macchina che occupava il posto e ne misero quella carica di esplosivo proprio una trappola vera e propria come hanno fatto con Chennichi una trappola vera e propria tra l'altro Paolo la scorta non poteva neanche fare la bonifica perché come si fa a fare la bonifica con una macchina una strada piena di macchine come quella le devi guardare una per una che dici Gaspar uguale che hanno fatto con Chennichi che non c'era nessuna protezione protezione hanno messo la macchina al momento che è arrivato il titolo hanno tolto quella e hanno messo quella e fu ucciso alla stessa maniera proprio con una macchina carica gli attentati libanesi li chiamavano perché allora era in Libano che facevano gli attentati di questo tipo per me sia Paolo che Falcone per quello che hanno fatto per l'amore che hanno dato perché loro li dovrebbero santificare è assurdo che santificano un Papa un Cardinale con tutti gli scantoli che ci sono nelle loro vite e due personaggi veramente che dopo 30 anni ci sono persone che lo pensano e piangono per quello che hanno passato perché avevano diciamo non solo i mafiosi contro ma avevano anche personaggi dello Stato dello Stato che caspare io sono laico non ho la fede di mio fratello per me farli santi vuol dire metterli su un altare e anche presentarli come eroi sbagliati perché cosa pensa la gente se non ci sono riusciti neanche loro che erano degli eroi che cosa posso fare io e invece se tutti facessimo la nostra parte non ci sarebbe bisogno di eroi come Paolo Borsellini e Giovanni Falcone io non sono d'accordo tu so che hai acquistato una fede la mia cultura io so che tu hai una fede e la rispetto la tua fede come rispettavo quella di mio fratello io ho una fede specialmente negli ultimi periodi diciamo dopo la morte di mia moglie infatti sono completamente sento qualche cosa che mi guida che mi dice però la cosa più bella che io penso è l'aiuto morale che mi ha dato mia moglie insomma mia moglie da quando lei mi manca l'amore che perché con la perdita di mia moglie ho capito cosa perde uno quando effettivamente c'è una persona che ti sta accanto che ti vuole bene che ti rispetta che tu non ti senti solo io con mia moglie non mi sentivo mai solo mi manca mia moglie io la penso dipingo va bene e penso quello che quello che mi è mancato ma cosa posso fare mi rifugio dietro i miei dipinti ma ora dico io a te ti sembra di avere davanti una persona che ha fatto quello che ha fatto nella vita cioè no e come è possibile di avere davanti di avere davanti di avere davanti Grazie a tutti.